Se prendete posto possiamo iniziare anche con una certa puntualità, anche perché dopo la densa sessione mattutina anche quella pomeridiana è costellata da relatori e da relazioni importanti. Mi piace ricordare quella sentenza della Corte Costituzionale perché fu scritta da un napoletano, da un maestro della cui amicizia ho avuto l'onore di poterlo frequentare come Giuseppe Tesauro il quale rispetto alle cause di risarcimento per le vittime della Germania nazista lui che era stato avvocato generale della Corte di Giustizia rispetto a quella sentenza della Corte Internazionale di Giustizia non ebbe scrupoli ad invocare i controlimiti, cioè a dire quando si tratta di principi supremi della Costituzione e la Corte Costituzionale, il giudice delle leggi, non c'è limitazione alla sovranità nazionale che conti, che possa essere invocata quando parliamo di principi supremi. Poi c'è un seguito, ma il professore Chieffi presiderà questa sessione e sicuramente è un tema che emergerà. In questo breve saluto, che in parte ripeto i saluti introduttivi di stamattina, per la sessione in particolare mi fa piacere ringraziare la qui presente Emilia D'Antuono perché questa sessione, da tutto il Comitato Scientifico però in particolare da lei con il seminario E permanente di Etica, Bioetica e Cittadinanza è stato curato, ringrazio Mario Avagliano, Gloria Chianese e il Comandante Giuseppe Nicola Tota per essere qui e dare il loro contributo. Qui c'è una rappresentanza degli studenti ma sono in realtà centinaia se non migliaia, abbiamo già visto i collegamenti sul sito Youtube del nostro centro interuniversitario e gli studenti che ci seguono a distanza. Quindi grazie di essere qui, benvenuti e buon lavoro. Grazie Andrea. Allora diamo inizio a questa seconda sessione che prende spunto, come diceva Andrea Patroni Griffi dalla vicenda che ha coinvolto gli internati militari italiani con questo acronimo IMI che voleva in qualche modo significare una restrizione in un internamento, in campi di concentramento senza riconoscimento di prigionieri di guerra. La convenzione era quella di gennaio del 29 ma che avrebbe impedito, per le garanzie che sarebbero derivate, ai tedeschi di utilizzare come avvenne anche per lavori forzati. Credo che sia utile ricordare che ne stiamo parlando perché la legge 211 del 2000 quella approvata per iniziativa di Furio Colombo e di altri, Palmizio e altri, ma soprattutto fu Furio Colombo nell'istituire il giorno della memoria dedicata naturalmente al ricordo dello sterminio e della persecuzione del popolo ebraico, ci tenne ad integrare, ad aggiungere questo ricordo anche per il sacrificio e l'eroismo dimostrato, dice espressamente la legge, dai deportati militari e i politici italiani nei campi nazisti che hanno subito la deportazione, la prigionia e la morte. Nella stessa relazione di accompagnamento al progetto di legge, era firma di Diego Novelli, che era il componente della Commissione Permanente Affari Costituzionali, si sottolineava l'importanza di una legge che avrebbe consentito, cito espressamente, di avere memoria storica dei crimini nazisti in Europa e in Italia insieme alle persecuzioni politiche, alla deportazione di tanti militari e civili che non si sono piegati. Quindi va sicuramente a merito del CIRB, ma in particolare devo dire della collega Emilia D'Antonio aver in qualche modo pensato, noi siamo credo alla dodicesima edizione, ci siamo rivolti in queste edizioni per il giorno di memoria, soprattutto al ricordo doverosissimo della persecuzione degli ebrei, ma non avevamo prestato attenzione in passato a quest'altro eroismo, a quest'altro sacrificio che in qualche modo è una disattenzione, noi avremo fa poco il professor Avaliano, di cui ho letto il libro e devo dire molto apprezzato, una disattenzione da parte della politica, ma anche da parte dei giuristi. Andrea citava questa vicenda di cui parlerò però dopo, questa vicenda sui risarcimenti, e quindi aver dedicato un pomeriggio alla riflessione di questa vicenda è molto importante. Tra l'altro, visto che la nostra giornata è dedicata a questi eventi rispetto all'espressione artistica, stamattina si è parlato di Shoah e musica, Shoah e letteratura e poesia, Shoah e fumetti, ma anche rispetto a questa vicenda, io ho cercato di trovare qualche ricordo su espressioni artistiche nella cinematografia, quindi nella settima arte, è inutile dire la settima arte su cui noi ci dedichiamo anche, io sono un giurista, ma ci dedichiamo molto come espressione, una rappresentazione, come diceva Italo Calvino, una lente di ingradimento di fatti appartenenti alla vita reale, cioè i protagonisti, in modo da consentire una maggiore comprensione, ma anche la cinematografia sulla vicenda degli internati non ha dedicato molto spazio. Certo, non voglio rapportarlo alla vicenda della Shoah, su cui la filmografia, la cinematografia è molto ricca, due titoli, uno era un film di Comencini, tutti voi lo ricorderete, tutti a casa, Alberto Sordi, lo stesso De Filippo, Edoardo De Filippo, raccontava la storia di questo internato che riesce a sfuggire ai tedeschi e poi attraverso varie peripezie, due suoi compagni Morio, arriva a Napoli e partecipa alle quattro giornate addirittura mi ritagliando i tedeschi. L'altro film invece che ricordavo molto bene è Cefalonia, Riccardo Milani, siamo nel 2005, il primo film è degli anni 60, 1960, invece Cefalonia nel 2005 c'erano notissimi attori come Zingaretti, Laranieri, lo stesso Massimilano Gallo, Mastrandrea, Mendoa, che racconta invece proprio l'episodio della divisione Acqui. Quindi il dopo 8 settembre e ripercorre tutte le fasi di questa tragedia del sergente Saverio che assiste a tutti i principali avvenimenti, dalla gioia di aver appreso l'ammistizio annunciato da Badoglio per radio, alla doccia fredda di dover decidere con quel sì e il no se accettare la proposta dei fascisti e dei nazisti, al referendum che viene indetto dal generale sulla questa scelta, la mancanza di direttive da Roma che li lasciava quindi in una situazione di inconsapevolezza che cosa fare, dal rifiuto e quindi dall'eccidio degli ufficiali, la resistenza fino a che i tedeschi vanno via e rimangono alcuni superstiti. Ma al di là direi di questa di queste episodiche rappresentazioni di questa sorte toccate agli emi, anche l'attenzione dedicata dalla politica è stata, soprattutto nel dopoguerra, è stata molto episodica. Ho cercato di leggere, di trarre negli atti dell'Assemblea Costituente, io sono un costituzionalista dove si è discusso molto della tragedia della Shoah, noi abbiamo dedicato diversi incontri all'articolo 32 della Costituzione, l'articolo 32 della Costituzione sul diritto alla salute vedeva come proponente Aldo Moro che aveva come immagine l'uso della medicina da parte dei medici nazisti, l'uso dell'essere umano come un oggetto, la reificazione dell'essere umano e quindi scrivere in Costituzione mai più quella medicina, la dignità della persona, il rispetto della persona umana, l'immagine che avevano i costituenti erano quello che era capitato durante la dominazione del regime nazista e fascista con le leggi sulla razza del 38 e 39. Invece sugli internati ho trovato alcuni interventi, c'era il comunista Paietta, una democristiana degli Castelli e Francesco Severo Uniti, il quale però aveva sofferto nella sua famiglia nella prima guerra mondiale un'analoga situazione per un figlio e quindi lui ebbe parole di richiamo alla sorte dei militari dopo l'armistizio. È un disinteresse da parte della politica che è stato protatto per molti anni e fra poco ci sarà il professor Lavagliano che ci parlerà anche delle motivazioni di questo ritardo a che l'opinione pubblica si appropriasse di questo tema che si deve soprattutto alla storiografia, a questa memorialistica, a questi documenti che sono piano piano emersi da parte di alcuni protagonisti. Io tra i libri che avevo nella mia biblioteca avevo avuto il dono di questa memoria di un internato in Germania tra il 42 e il 45, Franco ingenito e spero che più tardi ci sarà un intervento del figlio che vive a Firenze, il quale racconta in questa memoria proprio le traversie, le sofferenze ripercorrendo tutte le fasi, lui era in Grecia, avrebbe avuto l'opportunità di essere ad Atene da cui fa i miliari ma responsabilmente aveva, era responsabile del compito di costruire la paga dei suoi militari nel rispondere no, non volle abbandonare quindi i suoi militari e racconto in questo diario la gioia dell'armistizio, lo sbaraglio perché non c'erano direttive da Roma, dover decidere se accogliere l'invito dei tedeschi e dei fascisti, di proseguire la guerra o arrendersi, quindi di rifiutare l'adesione per tutta una serie di motivi di cui si parlerà sicuramente durante la sessione pomeridiana, la responsabilità di non abbandonare i suoi commilitoni, di subire l'inganno di essere portato in Italia, dei suoi familiari invece di essere condotto quindi in Germania, di subire un lungo periodo di detenzione, ben due anni e riuscendo a salvarsi probabilmente anche per avere una minima conoscenza del tedesco ma soprattutto saper fare i conti, per cui era nel secondo anno della prigionia utilizzato per fare i conti fino a poi ritornare in Italia. Quindi è proprio la memorialistica, sono queste testimonianze che sono emerse con grandi verità del professor Vagliano, parla dagli anni 90 in poi, ad avere in qualche modo riattivato questa memoria. Io mi fermo qui perché poi mi riservo per la parte giuridica che è stata accennata dalla collega Patroni Griff di dirvi due parole perché è una vicenda interessantissima, io non la conoscevo ma devo dire che mi sono appassionato perché arriva fino ai nostri giorni, fino al decreto Draghi che cerca ma non riesce di porre rimedio a questo diritto doveroso di risarcimento dei militari. Ma su questa storia mi riservo di dirlo successivamente. Invece passo la parola alla professoressa Emilia D'Antuolo che è una professoressa che voi conoscete, titolare della materia di filosofia morale presso l'Università di Napoli Federico II e che ancora una volta ringrazio per aver avuto questa splendida idea perché si è riuscita a consentire al CED di completare quello che la legge che noi ogni anno ricordiamo del 2000 prevede ma che noi abbiamo lasciato un po' in disparte che invece abbiamo avuto il modo di recuperare quest'anno. Quindi cedo la parola ad Emilia D'Antuolo. Allora buonasera a tutti, ringrazio tutti, comincio con il ringraziare il professore Chieffi, i ringraziamenti sono reciproci perché il professore Chieffi quando era direttore del CIRB ha voluto che il CIRB prendesse in considerazione il giorno della memoria, etica, bioetica e cittadinanza, lo faceva in un seminario permanente presso il Dipartimento di Scienze Sociali che mi onoro di coordinare con la professoressa Maturo. Dicevo ha voluto che ci fosse questa collaborazione e che appunto insieme potessimo riflettere, ecco perché di questo si tratta nel giorno della memoria. Quindi un po' a lui dobbiamo l'attivazione di questa iniziativa del CIRB e per quanto mi riguarda anche questo dialogo con etica, bioetica e cittadinanza. Ringrazio ovviamente i relatori, il professore Avagliano, lo conoscerete da qui ad un attimo. Io ho letto tante cose sue, è stato nostro ospite. No, i suoi testi sono stati, voci da Liger in particolare, stati esaminati nel corso di un giorno della memoria di qualche anno fa. Ringrazio la reattrice Gloria Chienese, naturalmente li sto citando secondo l'ordine nel loro intervento, che è una storica ed è una storica a cui io devo, diciamo, moltissimo sul piano delle conoscenze. Ecco, quando uscimmo dai rifugi, il suo volume, i suoi saggi nella storia d'Italia di Einaudi, le sue lunghe chiacchierate tra me e lei a telefono, passeggiando nel bosco di Capodimonte, in situazioni universitarie sono state, come dire per me, una sorta di stella polare per orientarmi negli studi storici. Io vengo dalla filosofia, appunto ho insegnato filosofia morale tutta la vita ed etica e bioetica, lei è una storica, da sempre sono stata convinta che i filosofi senza la storia almanaccano, non ragionano. E quindi la mia passione per la storia, la sua competenza e le sue metodologie mi hanno anche aiutato ad elaborare pensieri, se posso dire così. Ringrazio moltissimo anche il generale Giuseppe Nicola Tota, che io ho ascoltato in più di un'occasione di persone in presenza una volta, ma l'ho ascoltato poi online, ho ascoltato le sue parole sui giusti tra i militari, ho letto quando ha scritto su Maurizio Lazzari de Castiglione, io ho anche seguito la sua lezione, una lezione universitaria svolta su questo tema, per il resto glielo dicevo prima, glielo dicevo anche al generale Seppe, l'universo militare mi è estraneo come alla maggior parte di noi ed è la ragione per cui ho voluto e ho insistito tanto che venissero i più giovani, gli studenti, per dare loro la possibilità di dialogare direttamente con personalità così di spicco delle istituzioni. Quindi io ringrazio anche il colonnello Giuseppe Stellato, che è il comandante della scuola militare Nunziatella, e devo dire che sono particolarmente felice di avere gli allievi, e fatemelo dire, le allieve, fatemelo dire, significa qualcosa, che ci sono anche le allieve oggi. e ringrazio il generale Carmine Seppe che è qui con noi e mi ha aiutato nell'organizzazione di questo pomeriggio di studi e in più il generale Seppe ha interessi di carattere filosofico, viene da Nola, non è il Nolaner, glielo dicevo stamattina, cioè Giordano Bruno, e lo dicevo sorridendo perché in Germania quando leggevo il Nolaner in un primo momento non capivo, tanti anni fa, sono stata anch'io, non ci sembra, ma sono stata anch'io ragazza come voi, e quindi studiavo in Germania e der Nolaner mi sorprendeva e non riuscivo ad identificarlo. Spero che vorrà poi partecipare alla nostra discussione. Intanto io vado al tema del nostro pomeriggio, vedete le diapositive, questo exergo a cui io tengo particolarmente, l'ho mostrato anche stamattina, il signore che lì vedete è un grande filosofo, Michel Montaigne, ogni uomo porta in sé la forma intera della umana condizione e giù leggete un'espressione del Talmud che salva un uomo, salva il mondo intero. Ma questo dovete consentirlo alla mia vocazione, diciamo così, didattica, pedagogica, lo volevo comunicare soprattutto ai più giovani perché riflettessero sul senso di queste frasi. Dopodiché c'è un insieme di diapositive su cui possiamo andare veloce perché il lavoro che abbiamo fatto nel corso degli anni volevo che fosse un pro memoria, CIRB e etiche bioetiche cittadinanze insieme, e invece la diapositiva che guardate sullo schermo fa riferimento alla lezione e poi alla discussione con gli studenti che ha avuto il 19 dicembre, c'è chi dice no, il giorno della memoria e le resistenze taciute. Ho portato per un verso l'appello del governo di Salò, per l'altro verso la risposta di un militare. Al posto della firma scrive un drastico, un drastico no. E nella diapositiva successiva immagino che ci sia il riferimento al lavoro fatto dalle scuole. Ci siamo viste il 24 gennaio in base ad un progetto dell'ufficio scolastico regionale e ringrazio il dottore Benigno Casale che è qui in rappresentanza dell'ufficio scolastico regionale per la cura che ha avuto. Sì, è arrivata anche la dottoressa De Blasio, la saluto e la ringrazio. Anche lei è stata nel corso degli anni parte determinante per l'organizzazione del nostro rapporto con la scuola. Chi mi conosce sa che ci tengo moltissimo a questo dialogo tra la scuola e l'università e qualcuno tra di voi sa che ho avuto anche qualche difficoltà a stabilire questa relazione perché tutte le iniziative richiedono impegno, richiedono fatica. Ma io sono una persona molto, molto destarda. Le diapositive successive, ho fatto questa diapositiva perché mi sembrava che così era più facile indicare i vari temi di interesse, sono opere d'arte, quelle che vedete in alto sono state fatte da IMI, cioè internati militari di cui ormai i più giovani cominciano a sapere qualcosa e c'è la copertina Un canto salverà il mondo questo volume che è il volume di Lotoro, uno studioso meridionale pugliese che ha raccolto tantissimi documenti, quindi musica scritta che poi è stato possibile anche suonare e le altre due immagini si riferiscono, una al volume di Alessandro Natta, lo accennavo stamattina, ci torneremo sopra. Alessandro Natta è stato un internato militare italiano, Alessandro Natta è stato il segretario del Partito Comunista Italiano, ha scritto un libro molto bello che negli anni 50 non è stato pubblicato dagli editori riuniti, lui ha spiegato diciamo con una solita grande solidarietà che riguardava quel gruppo che insomma c'erano difficoltà di programmazione, ma guarda caso a fine anni 90 dopo la caduta del muro di Berlino questo libro è stato pubblicato e vi assicuro che è veramente molto bello, è molto bello e ci sono riferimenti a situazioni che davvero dovrebbero far riflettere tutti, aveva già scritto in passato anche nella storia d'Italia dei Naudi un saggio sugli IMI, gli internati militari italiani dando larghissimo spazio alla Zati che è stato il rettore dell'università di Milano e che è stato tra i fondatori della democrazia cristiana quindi come dire il riconoscimento di ciò che c'è di sostanziale negli esseri umani viene anche da persone collocate su fronti diversi e questo vale a maggior ragione per l'altro volume che vedete Guareschi, il diario clandestino di Giovannino Guareschi appunto, lo dicevamo, lo accennavamo stamattina Giovannino Guareschi è uomo di destra e ha una grande genialità, una grande capacità di ironia avrete visto sicuramente il dongamello televisivo che io vedo, continuo a vedere perché mi diverte moltissimo in suo modo di fare ironia sugli universi chiusi e sulla possibilità di incontrarsi al di là degli universi chiusi e Giovannino Guareschi è un internato militare, le immagini rimandano l'uno al diario e l'altra alla favola di Natale perché da internato IMI lui scrive questa favola per la bimba che gli è nata in Italia che poi è stata messa in musica perché appunto in questi campi di internamento c'è un esercizio di arte, di poesia, di letteratura di creatività anche straordinaria pur nelle difficilissime condizioni di vita e dunque questo per dire quella copertina per me era un po' una sorta di manifesto e di sintesi visiva che volevo appunto mostrarvi vabbè il titolo C'è chi dice no rimanda alla canzone che sicuramente i più giovani conoscono la conosco anch'io ma io sono un'appassionata del genere pur essendo totalmente ignorante di musica devo dire che stamattina mi è venuta di nuovo una grande nostalgia per il fatto che non ho studiato musica, abbiamo sentito delle cose bellissime bene, le canzoni le ascolto ininterrottamente, la musica l'ascolto ininterrottamente C'è chi dice no, è una canzone di Vasco Rossi Vasco Rossi si chiama Vasco, lo ha preso dal libro del professore Avagliano perché figlio di un internato militare italiano che ha avuto la vita salva dalla solidarietà di un compagno di prigionia che appunto si chiamava Vasco C'è chi dice no, non è direttamente riferibile alla vicenda degli Imi ma io credo e lo credo fermamente questo che il no che segna il rifiuto di inumano e di disumano e questo è il no degli Imi ci riporta direttamente alla lucidità della loro coscienza in un momento particolarmente difficile è vero, il male è sempre coperto dall'ombra, lo vuole la tradizione ma in questa situazione di tenebre e di difficoltà tantissimi, 650.000, 600.000 militari italiani ebbero lucidità di giudizio l'immagine che vedete riguarda la prima pagina di un giornale appunto vi spiega ai più giovani naturalmente l'ambiquità la guerra è finita ma di fatto poi la guerra come sapete non finisce l'immagine successiva rimanda ad un altro volume perché ho pensato che la cosa migliore per rendervi come dire viva questa vicenda era anche un po' indicarvi attraverso immagini i libri che l'affrontano la straziante incertezza la straziante incertezza e questo strazio secondo me è un valore aggiunto è anch'esso un valore un valore morale è un valore di cui non possiamo non tener conto il giorno della memoria è il giorno di riflessione di come dire del rendere giustizia ed è anche un giorno di riconoscimento di chi ha avuto coraggio io ho messo sulla diapositiva la parola latina pietas perché non vorrei che non vorrei essere fraintesa la pietas è precisamente questo è il riconoscimento dell'umanità degli altri è quella che ci ha reso umana dal di che nozze tribunali e dare dietro alle umane belve essere pietose pietosa ed esistesse ad altrui e qui pietoso vuol dire questo costruzione di umanità e allora perché ho voluto questo questo titolo sul piano filosofico e lo accennavo filosofico morale sul piano filosofico morale la connessione tra il sì e il no tra l'obbedire e il disobbedire è fondamentale la capacità di dire sì e la capacità di dire no l'obbedire e il disobbedire sono le due facce della medaglia della responsabilità della responsabilità della scelta della scelta consapevole obbedienza e disobbedienza non voglio usare un linguaggio difficile non sono absoluti sciolti dalle condizioni in cui si esercitano altrimenti cancelliamo la nostra identità di esseri umani di persone ecco non voglio dire individuo mi piace moltissimo la parola persona che non a caso è la parola è il cardine della nostra costituzione se non ho capito male nei documenti europei oggi la si usa addirittura al plurale le le persone e io direi che sul piano morale è particolarmente illuminante riflettere su come matura questo no nel contesto dell'ethos militare in cui obbedire è giustamente onore e virtù la tradizione militare fa dell'obbedienza giustamente una virtù non è una virtù assoluta non è una virtù che può cancellare la facoltà di giudizio degli esseri umani come facoltà morale vedete Emanuele Kant nella fondazione della metafisica dei costumi insiste su questo punto la facoltà di giudizio e di distinzione del bene e del male appartiene ad ogni essere umano a prescindere da scienza e filosofia posso sapere che cosa devo fare per essere uomo lui dice in quanto ho la facoltà di giudizio io trovo particolarmente illuminante le motivazioni del no che i documenti raccolti dal professore a Vagliano ci mostrano ed è un tema su cui sono tornati gli storici i filosofi gli storici militari perché il tema è stato molto preso in considerazione anche dagli storici militari tra le altre cose è il volume di un tedesco Schreiber se mi ricordo bene in questo momento scusate per questo ora sono un po' stanca non ho la vostra età e dicevo è un tema molto molto studiato questo delle motivazioni delle motivazioni individuali delle motivazioni che maturano in un contesto ecco voglio dire l'ethos militare ha le sue regole le sue leggi questi giovani si trovano la maggior parte sono giovani in una situazione in cui quell'ethos è già stato stravolto perché tutto è già accaduto la guerra totale le stragi gli stermini e non vorrei sbagliare davanti alla professoressa dalla professoressa Chianese e quindi come fare a sentirsi legati allo Stato cioè alla Repubblica di Sociale di Salò o al Reich quella Repubblica sociale quell'alleata del Reich non rappresenta per loro non può più rappresentare la patria la patria è una parola usata ed abusata dal fascismo che ne stravolge i significati risorgimentali io insisto sempre su questo punto la patria nella tradizione risorgimentale e lo dico con le parole di Mazzini la patria dei diritti la parietria dell'uguaglianza della libertà e la patria che va difesa anche se non appartiene alla propria nazionalità è un tema famosissimo Lord Byron Santurre di Santa Rosa muoiono per la liberazione della patria dei greci non c'è una competizione tra le patrie ecco allora questa patria non può essere identificata con Salò alleata alleata del Reich alleata cioè di un di uno Stato che ha compiuto stragi sistematiche che ha stracciato completamente il diritto ed è un punto secondo me di grande di straordinaria importanza perché uno degli aspetti fondamentali dei regimi totalitari è cancellare il principio di giustizia è cancellare il diritto ritrasformarlo in arbitrio e non nella conseguenza di un patto idealmente patto naturalmente tra gli esseri umani per la loro umanità e quindi dicevo ho preferito e forse chiederei di mandare un poco avanti le diapositive sempre per poter fare in modo che loro che i nostri più giovani guardino i libri e tra le diapositive io avevo inserito un'immagine del Nabucco di Verdi perché il Nabucco viene rappresentato da questi da questi militari e ci sono le memorie della nostalgia di questa patria ma quale patria anche quello è un grande tema ma la patria bella è perduta per loro è la patria risorgimentale non è certo la patria della Repubblica Sociale di Salò e lo dicevo anche la musica esprime questa nozione di universalità non è neanche la patria neoetnica la patria del prima gli italiani prima i francesi prima i tedeschi e non so chi altro prima ma è appunto la patria dei diritti del riconoscimento della comune umanità Nathan il sindaco ebreo di Roma agli inizi del novecento diceva la patria è la leva per l'umanità ecco questo è il concetto io spero di non aver forzato i termini degli storici ma sotto il profilo della riflessione filosofica e concettuale a me viene in mente questo se sbaglio Gloria Chianese e il professore Avagliano potranno correggermi e quindi il no non abbiamo dimenticato mai di essere uomini uomini con un passato e un avvenire tra le altre cose ci tengo a dirvi che queste immagini sono state da me catturate non so se fraudolentemente ma sul computer da questo bellissimo museo IMI che è anche visitabile online quindi se ho messo l'indirizzo se a qualcuno di voi interessa potete vederlo e dunque dicevo il valore di questo no di questi giovani che erano stati dalla pedagogia fascista educati a credere obbedire combattere e perciò avevo riportato sempre da questo museo IMI questa figura emblematica questa immagine emblematica fu domandato ad un sapiente quale deve essere la prima virtù del bambino rispose l'obbedienza e la seconda l'obbedienza e la terza l'obbedienza noi sappiamo che l'obbedienza ai bambini va insegnata ma noi sappiamo che gli esseri umani adulti hanno la facoltà di giudizio l'obbedienza è una virtù in un contesto dentro un patto dentro delle regole se qualcuno quelle regole le ha stracciate e il patto non esiste più ed è il caso della Repubblica Sociale è il caso del Terzo Reich allora che cos'è? che cosa diviene l'obbedienza? diviene la passività e io vado un pochino più veloce perché ho raccomandato anche al professore Chieffi di ricordarmi i tempi quando presa sì e allora andiamo un poco poco più veloci allora dicevo il no dei militari italiani che avevano sempre ovviamente obbedito e ora invece obbediscono ecco al patto che qualcuno Salò e il Reich avevano già stracciato questo no si ripete anche le immagini qui sono del museo noi non vogliamo non dobbiamo non possiamo riconoscere il governo Mussolini dicevo questo no è come dire ha un grande senso sul piano morale perché agli imi che via via sottoposti avvistazioni fame tortura eccetera eccetera avessero come dire abbiurato a loro no e avessero detto sì era consentito poi tornare in patria vabbè c'erano anche degli inganni naturalmente ce lo spiegheranno gli storici ed è come dire da qualche parte ho letto un caso unico un caso unico ma non è così non è in realtà un caso unico ce n'è un altro di caso di internati destinati allo sterminio che dicono no e sono a proposito di memorie dimenticate e taciute i testimoni di Geova i testimoni di Geova vengono sottoposti a torture terribili perché dicono no loro obbediscono solo a Dio e Hitler non può mettersi al posto di Dio le donne rifiutano di uscire le uniformi e naturalmente i nazisti si accaniscono perché sperano che con le torture li convincono in larga parte moriranno ecco lì è un problema di fede di fedeltà diciamo così qui è un problema di lealtà ad un ideale che aveva però alle sue spalle un patto che era il patto dell'umanità il patto delle istituzioni istituzioni lo ripeto che si erano date delle regole esistono dei codici militari esiste un ethos militare leggevo a proposito di Lazzaro dei Castiglioni nell'ethos del militare c'è la difesa dei deboli quindi c'è tutta un'etica dietro queste decisioni un'etica che non necessariamente sta nei libri scritti stava evidentemente negli esempi e nelle azioni precedenti e dunque quindi questo no è forte e reiterato ce n'è un secondo ed è il no alla riduzione a lavoratori quindi portarli allo stato civile e qui veramente la pagina di portata dal professore Avagliano è emozionante dicono no malgrado la propaganda provi ad ingannarli in Italia anzi c'è una lettera di qualcuno che scrive alla moglie dicendo non farti ingannare dicono così in Italia ma così non è e la frase che ho voluto riportarvi soldati siamo stati catturati soldati siamo trattenuti con la forza soldati vogliamo un giorno tornare in patria ecco confesso che questo davvero davvero mi commuove la ferma decisione e no dice riporta in un'altra pagina il professore Avagliano no con l'accento sulla O e devo dire che questa la lettura di questo libro e di altre testimonianze mi ha emozionato anche per questo molto spesso sono giovani chissà forse hanno fatto solo le elementari naturalmente non gli ufficiali scrivono correttamente in italiano questi giovani sono giovani di quell'umile Italia mi verrebbe da dire per usare un'espressione dantesca ad altro proposito che appunto non sono andati a scuola però ecco loro le persone non acculturate gli ufficiali sì hanno una lingua comune forse c'è una grammatica violata non importa quello che importa è questa grammatica che è la grammatica dell'anima della morale della decisione della scelta della coscienza appunto e quella è comune e dopo di ciò ci sarebbe un po' una sfizza di libri che volevo mostrare ai più giovani e che però hanno titoli molto significativi no scelta altra resistenza e il libro di fotografie di Vialli di cui sicuramente vi parlerà il professore Avagliano con questa piccola macchina fotografica eccola 400 fotografie che raccontano la vita nel lager e forse rapidamente le possiamo fare scorrere almeno per darvi diciamo un'idea di persone reali di esseri umani reali e delle loro sofferenze gli oggetti della quotidianità appunto ecco questa è una macchina da scrivere e invece l'altra immagine quella successiva ricorda come dire un episodio mitico naturalmente nell'esercito io non conosco la denominazione precisa ma ci sono delle persone addette alla trasmissione no non so i trasmettitori marconisti non so come si dice ma insomma persone capaci con robe d'accatto costruiscono Radio Caterina Radio Caterina la mitica Radio Caterina che riesce addirittura a comunicare lo sbarco in Normandia e naturalmente sotto minaccia di morte perché perché così perché era vietatissimo e la pena era morire le immagini fanno riferimento a queste a queste radio allora benissimo c'è un simpatico racconto le diapositive ci resteranno che è quella di Luigi Grigoletto il cappuccino che salva gli Imi che sono stati come dire colti in fallo dai nazisti perché sono entrati nel reparto per controllare e nasconde tra le gambe la radio e va via e li salva tutti e li salva tutti dunque il tema per noi importante è quello delle memorie taciute delle memorie dimenticate lo dicevamo anche stamattina in fondo un filo conduttore di questi anni lo accennava anche il professore prima sono le memorie non considerate e io volevo ricordare ai più giovani che con le pagine di questo libro molto bello secondo me di Emanuele Fiano il profumo di mio padre che la memoria è il ragionamento solo se anche ragionamento oltre tutte le emozioni che io stessa oggi ho provato è costruttrice di altro e ancora qualche volume degli eroi di Unterliuss vi parlerà sicuramente il professore e così del volume di Alessandro Natta e del diario di clandestino di Guareschi ma ripeto siccome ve le lascio le diapositive volevo darvi come dire un indice che fosse un inbot e un'ultima cosa voglio dirvi sulle memorie difficili e questa me la dovete far dire è che diciamo delle memorie difficili la prima ad avere cognizione è stata Napoli con la Napoli milionaria di Edoardo De Filippo che è stata scritta nel 45 quando la liberazione non era ancora compiuta e qui ci sono tutti e due i temi parla il povero Gennaro e nessuno lo sente nessuno gli dà ascolto ed è l'incubo che tormenta Primo Levi e tutti i i testimoni tra le altre cose Primo Levi aveva visto il suo libro se questo è un uomo rispinto dai naudi l'aveva pubblicato con De Silva però quando nel 54 credo arriva alle inaudi come consulente per la scienza il primo libro che compra è la Napoli milionaria di Edoardo che è ripeto celebre per questo e poi per l'altra frase che però non commento non commento era ebreo o povero cristiano mi sono come dire ho fatto questo gesto di tradurre in italiano il pezzo di Edoardo di Filippo che non è traducibile è bellissimo nella sua lingua e ho portato sulle diapositive le immagini d'epoca della Napoli milionaria di Edoardo che per me è il vertice della della memoria possibile della riflessione della trasmissione di valori fondamentali allora Gennaro Iovine che è il personaggio di Napoli milionaria non è un internato militare italiano lo è invece Reféle Berchaglie di cui vedete avete visto prima l'immagino dopo non so lo scenografo di Edoardo è un internato militare italiano che poi ha dipinto tante tele importanti e quindi ci tenevo particolarmente a ricordarvelo e per il resto che cosa posso dirvi il no all'oblio lo diranno con forza i nostri relatori ho voluto riportare qui immagini dei volumi di Mario Avagliano immagini non di tutti i volumi e di tutti i testi di Gloria Chianese perché voi ne possiate prendere nota e leggerlo e infine questo passaggio fondamentale sui giusti che invece ci darà il comandante Giuseppe Nicola Tota vi dicevo prima che l'ho già ascoltato in altre occasioni e mi piaceva molto questo tema che l'onore militare imponeva a Maurizio Lazzaro di Castiglioni di tutelare i più deboli ma la storia di Giuseppe Nicola scusatemi di Maurizio Lazzaro dei Castiglioni ce la racconterà infinite volte meglio di come potrei fare io il comandante Tota che davvero ringrazio molto molto di cuore anche per la sua attenzione al tema dei giusti è il tema che ci serve in realtà in ogni momento e oggi più che mai oggi al nostro tavolo abbiamo il terribile convitato di pietra del nostro presente che è la guerra in Europa e quindi come dire riflettere sui giusti può essere appunto la stella polare che ci aiuta ad uscire da una situazione così terribile grazie allora grazie grazie Emilia credo che come punto di congiunzione con la seconda relazione del professor Mario Avegliano che ci parlerà di militari italiani e larghe nazisti una resistenza senza armi credo che il punto di congiunzione tra il filosofo e lo storico è la resistenza il diritto di resistenza anche per un costituzionalista il diritto di resistenza è un valore è un principio è la decisione per ragioni etiche di contrapporsi ad una regola subendone tutte le conseguenze la resistenza diciamo nel percorso repubblicano era anche l'autoriduttore era anche l'obiettore di coscienza fino anche la legge però la resistenza di cui invece parliamo è una resistenza direi eroica di chi si trovava in quella contingenza e per varie motivazioni io ho letto attentamente il libro del professor Ravagliano i militari italiani e i lager nazisti una resistenza senza armi consapevolezza antifascista la stanchezza di proseguire la guerra i nuovi ideali che si erano formati in queste persone ma per altre era la fedeltà ai Savoia l'illusione di potersi ricongiungere ai propri familiari il caso di Franco Ingenito che pensava di gioire per potersi ricongiungere invece furono traditi ma anche il rapporto tra giovani e più anziani e l'emulazione non sapre decidere e quindi si accodava ad altri l'odio verso i tedeschi anche altro grosso problema etico la paura di essere coinvolti in una guerra civile ed era un altro problema etico quindi voglio dire ci sono tanti tante ragioni che in qualche modo determinavano l'esercizio di questo diritto di resistenza e questo no quindi io voglio lasciare la parola al professor Valiano che più di lui è un esperto di questa fase storica e devo dire che grazie proprio agli storici che se ne sono occupati che queste vicende sono riemerse che dovrebbero determinare un dibattito pubblico poi ci saranno le conclusioni del senatore Romano e dialogavamo dell'ipotesi di rendere più visibile una problematica che ripeto ma lo dirò fra poco in uno dei miei interventi è ancora attuale mai risolta e qui sarà il giurista a dire i motivi prego allora buonasera intanto grazie all'università Federico II al consorzio al centro interuniversitario per aver organizzato questa giornata e grazie per esservi occupati di questo tema la professoressa D'Antonio ha questo merito di aver proposto come è stato detto il tema degli IMI e credo che sia particolarmente importante perché io e Marco Pelmieri che da anni ci occupiamo di questo tema il nostro non questo ma un altro procedente per i nauti che si chiamava gli internati militari italiani è stato il primo libro che la storiografia italiana abbia prodotto su questo tema e da anni giriamo l'Italia a parlare di questo tema ebbene quando noi andiamo in giro per l'Italia e chiediamo chi sono gli internati militari cava il silenzio adesso voi questa mattina avete già ascoltato avete sentito i relatori prima ma noi quando andiamo in giro nessuno sa chi siano gli internati militari vi racconto un aneddoto c'è capitato una volta di andare in provincia di Reggio Emilia a presentare appunto il libro sugli internati militari c'era il sindaco che come avviene in questi casi viene a fare il saluto istituzionale e il sindaco quella mattina andò passò casualmente dalla madre l'incontro del Pommeggio e disse che andava a fare questa presentazione e gli disse ma di che cosa si tratta si tratta di un libro sugli internati militari e la madre disse guarda ma lo sai che tuo padre era un internato militare cioè lui non sapeva che era un internato militare il padre quando venne lì alla conferenza e fece questo saluto scoppiò in lacrime dalla commozione perché aveva scoperto che il padre era un eroe che il padre era un protagonista di quella resistenza senza armi di quella resistenza silenziosa che è stata troppo a lungo ignorata troppo a lungo non valorizzata dal nostro stato italiano e questa è la copertina invece dell'ultimo libro che abbiamo dedicato a questo tema e nella copertina vedete un personaggio di cui si è già molto parlato questo personaggio è Giovannino Guareschi e Giovannino Guareschi fu uno dei protagonisti della resistenza culturale anche e lo vedremo dopo perché per resistere nei lager uno degli stratagemmi che gli italiani adottarono fu quello dell'arte della cultura dello spettacolo cioè ci si difendeva in questo modo infatti non a caso il tema generale di questa giornata riguarda appunto l'arte e la Shoah e come abbiamo ricostruito quello che accadde nei campi come sapete i tedeschi quando abbandonarono i lager all'arrivo appunto da un lato delle truppe alleate dall'altro dell'armata rossa bruciarono i documenti che si trovavano nei lager quindi c'è giunto molto poco della documentazione tedesca relativa alla prigionia o alla deportazione e quindi una fonte fondamentale per ricostruire quello che è accaduto sono dal lato le testimonianze soprattutto per quanto riguarda la deportazione degli ebrei e dall'altro per quanto riguarda gli internati militari tutti questi documenti che vedete qui elencati la corrispondenza dei diari degli internati i rapporti della censura perché come sapete la corrispondenza degli italiani era sottoposta a un rigido controllo ragazzi è come se i vostri cellulari i messaggi di whatsapp fossero controllati da qualcuno che li tiene sotto controllo quotidianamente vede che cosa scrivete allora non esisteva whatsapp c'erano le lettere in queste lettere gli italiani erano controllati controllavano sia la corrispondenza degli internati sia la corrispondenza di tutta la popolazione italiana e riportavano in queste relazioni della censura le frasi che ritenevano più significative a volte addirittura ritiravano le lettere dal corso così si è il gergo tecnico cioè praticamente non le facevano arrivare a destinazione le sequestravano altre volte invece quelle frasi che erano cosiddette incriminate le cancellavano con un tratto nero quindi pensate a queste lettere tutte con tratti neri e così erano le lettere degli italiani in quel periodo le relazioni delle autorità italiane e tedesche i volantini e i manifesti della propaganda i quotidiani e i periodici dell'epoca i verbali delle commissioni interrogatrici perché che cosa accade che questi poverini questi internati militari quando tornarono furono accolti con grande diffidenza bisogna dirlo questo tant'è vero che nei distretti militari furono sottoposti a interrogatori stringenti per capire come si erano comportati all'indomani dell'8 settembre per molti di loro questi interrogatori furono anche umilianti e poi la memorialistica quando nasce tutta questa vicenda qui abbiamo indicato l'armistizio in realtà nasce molto prima il nostro ultimo libro mio di Marco Palmieri perché siamo in due siamo un duo che ci occupiamo di questi temi da molti anni il nostro ultimo libro si intitola Il dissenso al fascismo e in questo libro noi raccontiamo come nasce il fascismo e la resistenza che una minoranza di italiani oppone alla dittatura fascista che sopprime le libertà che insegna nelle scuole una sola ideologia i ragazzi che noi ritroviamo nei campi e che vengono catturati dai tedeschi all'indomani dell'armistizio è questa generazione pensate un po' se voi nelle vostre aule di scuola universitaria o prima del liceo e degli istituti superiori avesse avuto come testi scolastici testi scolastici che vi insegnavano una sola ideologia quella fascista gli italiani conoscevano solo quello i ragazzi come voi erano costretti a vestire delle divise erano balilla o guf o piccole italiane e così via erano in divisa perché c'era una generazione intera di italiani che era educata alla guerra cercate di immaginarvi quando noi leggiamo e ci occupiamo di storia pensiamo sempre a qualcosa di astratto di lontano cerchiamo di immedesimarci noi costruiamo i nostri libri il nostro metodo storiografico si avvale delle lettere e dei diari proprio per consentire a chi legge una come entrare nelle stanze segrete dei personaggi che sono protagonisti della storia che non sono solo i grandi personaggi ma sono anche la gente comune le persone di cui si parla in questo libro questi internati militari sono persone comuni che poi magari diventeranno famose Giovannino Guareschi diventerà famoso Alessandro Natta diventerà segretario del partito comunista italiano c'è il padre di Vasco Rossi che è stato citato dalla professoressa D'Antonio ma c'è anche il padre di Francesco Guccini c'è il padre di Albano che era un internato militare c'è il padre del magistrato e poi ministro Antonio Di Pietro ci sono quindi tanti personaggi italiani che poi che hanno avuto un parente internato militare io dovunque vado io e Marco Palmieri dovunque andiamo in Italia troviamo dei figli o i nipoti degli internati militari poco prima di entrare la professoressa D'Antonio mi ha detto guarda che c'è una signora che è figlia la signora che ha un diario del padre che era un internato militare è una cosa straordinaria pensate andate a vedere nelle vostre case interrogate i vostri nonni o chi conosce la storia dei vostri parenti e vedrete che sicuramente troverete qualche internato militare ebbene scoprirete di essere parenti di eroi e dicevo questa vicenda quindi nasce nel 22 quando il fascismo costringe un'intera generazione italiana a credere obbedire e combattere che giustamente è stato ricordato dalla professoressa D'Antonio e porta gli italiani alla guerra non solo la guerra seconda guerra mondiale perché gli italiani arrivano al 1940 al 10 giugno del 1940 in cui Mussolini va al balcone di piazza Venezia e grida vincere e vinceremo che è il grido che si diffonde in quel periodo storico come slogan che viene diffuso su tutte le mura d'Italia e quello slogan vincere e vinceremo è lo slogan a cui arrivano generazioni italiane che già prima ha fatto la guerra di Etiopia la guerra di Spagna e l'invasione dell'Albania quindi si viene già da un periodo di tre guerre quella è la quarta guerra a cui si arriva che è la seconda guerra mondiale e quindi quando cade il fascismo il 25 luglio del 1943 qui avviene un problema per gli italiani perché gli italiani festeggiano la caduta del fascismo ma il governo in carica che è quello di Badoglio non prepara l'Italia all'appuntamento dell'armistizio è scontato si sa già che l'Italia intraprenderà le trattative con gli alleati per giungere a una pace perché il paese non ne può più della guerra perché ha capito che l'alleanza con la Germania era stata l'ultimo sbaglio attenzione non il solo sbaglio del regime fascista l'ultimo degli sbagli non raccontiamoci ancora la barzelletta che il regime fascista era una dittatura all'acqua di rose che l'unici errori che aveva fatto erano le leggi razziali e la seconda guerra mondiale che cos'era la soppressione della libertà che cos'era mettere in carcere o costringere a fuggire all'estero o uccidere o torturare o perseguitare o costringere a perdere il lavoro tutti quelli che non la pensavano come il regime fascista è accettabile? L'8 settembre chi decise di andare in montagna a fare la resistenza o disse no come gli internati militari secondo i tedeschi e secondo i fascisti e secondo un'opinione pubblica che è ancora strisciante commise un tradimento nei confronti dei tedeschi ma il tradimento non era avvenuto prima con la dittatura ma il tradimento non era avvenuto prima con la soppressione della libertà il vero tradimento era quello invece l'8 settembre come è stato detto dal presidente Ciampi fu il momento del riscatto nazionale il momento in cui tanti militari tanti italiani tante italiane decisero che quella fase si doveva chiudere che si doveva tornare alla libertà alla democrazia finiamo questa retorica del tradimento con questa retorica della dittatura all'acqua di rose dobbiamo veramente fare una svolta dal punto di vista dell'opinione pubblica e del giudizio storiografico su questo periodo della nostra storia quindi dicevo che l'Italia giunge l'8 settembre in modo impreparato perché i tedeschi invece già a fine luglio decidono una strategia precisa che è il piano axe questo piano axe che cosa prevede uno la liberazione di Mussolini due l'instaurazione di un governo fascista in tutta l'Italia occupata dai tedeschi che è l'Italia centro-settentrionale in cui doveva essere compresa anche Napoli non avevano previsto che i napolitani si sarebbero ribellati e questo lo raccontiamo in un altro libro che è Paisà Shusha e Segnonine e dicevo e non avevano previsto che poi la ribellione dei napolitani avrebbe salvato gli ebrei perché i tedeschi avevano già preparato il rastrellamento a Napoli quindi ci sono tanti tanti fatti importanti da sottolineare e dicevo due l'instaurazione del governo fascista tre di catturare tutti gli italiani in armi cioè i soldati sui vari fronti di guerra e costringerli o a decidere a combattere con i tedeschi oppure andare in prigionia nei campi di concentramento ed essere utilizzati come forza lavoro al servizio della fabbrica di guerra tedesca attenzione all'inizio non esisteva la Repubblica Sociale cioè all'indomani dell'8 settembre la Repubblica Sociale non c'era ancora Mussolini viene liberato il 12 settembre la Repubblica Sociale entra in funzione a fine settembre quindi la richiesta di adesione all'inizio non avviene all'esercito della Repubblica Sociale ma all'SS oppure alla Wehrmacht all'esercito tedesco quindi la prima richiesta di adesione avviene a queste unità e infatti c'è qualche decina di migliaia di italiani che aderisce non bisogna nascondere anche questo fenomeno la maggior parte la maggioranza degli italiani che vengono catturati dice no però c'è anche una minoranza che aderisce e qui vediamo le cifre un milione vengono catturati dai tedeschi 196.000 riescono a fuggire o vengono liberati dei rimanenti 810.000 94.000 aderiscono accettano di continuare a combattere al fianco dei tedeschi alcuni muoiono purtroppo durante il trasporto dalle isole greche e 710.000 vengono deportati nei lager nazisti e qui inizia già la deportazione vera e propria cioè entrano già nel cono d'ombra della deportazione gli internati militari con questi viaggi terribili in questi vagoni bestiane in cui vengono trattati appunto come bestie perché vengono rinchiusi in questi vagoni per giorni e giorni senza possibilità di poter espletare i propri bisogni perché non hanno non hanno cibo a sufficienza e quindi sono in condizioni davvero miserevoli e qui si verifica e qui ci sono tante ragazze un fenomeno bellissimo che è poco conosciuto e cioè la resistenza delle donne le donne vanno alle stazioni dove passano queste tradotte degli internati militari e raccolgono le loro lettere i loro biglietti e danno loro del cibo in queste lettere e questi biglietti c'è la notizia per i familiari che sono stati catturati dai tedeschi e che li stanno conducendo nei lager nazisti perché la direttiva che i tedeschi avevano dato che tradotta in italiano è notte e nebbia è far sparire nella notte e nella nebbia il destino dei soldati e dei deportati quindi la resistenza delle donne è fondamentale perché raccogliere questi bigliettini e inviarli con delle lettere di accompagnamento ai familiari degli internati militari permette alle famiglie di sapere qual era il destino dei loro cari quindi una pagina bellissima di resistenza che è poco conosciuta e qui vedete una di questi biglietti siamo stati fatti prigionieri vedete no? e qui c'è una testimonianza di Lino Monchieri come bestie da moacello siamo stati caricati a forza su carri bestiame gettiamo biglietti fuori dal convoglio sperando che qualche anima buona li raccolga per farvi giungere nostre notizie l'arrivo nei lager e qui inizia per gli internati militari il processo di spersonalizzazione che è tipica della vicenda dei lager non sono più delle persone ma sono dei numeri e devono attenzione devono imparare a memoria in tedesco il numero di matricola perché i tedeschi non li chiamano con il nome e cognome ma li chiamano con il numero di matricola in tedesco chiaramente chi conosceva il tedesco ebbe una qualche agevolazione per così dire tra virgolette agevolazione rispetto agli altri la vicenda degli ufficiali e dei soldati è un po' diversa non leggerete sul libro è troppo complicato spiegarlo in poche parole perché ho 5 minuti soltanto però è importante dire che la qualifica di IMI è una qualifica che viene inventata e brevettata tra virgolette dallo stesso Hitler per quali motivi vengono definiti IMI questi internati militari perché Hitler da un lato vuole punire gli italiani che considerano i traditori il concetto che vi ho detto prima e quindi vuole impedire che a loro sia applicata la convenzione di Ginevra che prevede l'assistenza da parte della Croce Rossa internazionale che prevede cibo assistenza medica eccetera che tutti gli altri prigionieri di guerra hanno solo gli italiani non la faranno in più la convenzione di Ginevra prevede il divieto di lavoro forzato e quindi gli italiani essendo classificati come internati militari non hanno assistenza della Croce Rossa e sono costretti ai lavori forzati in più Hitler ha anche la scusa di dire trattengo queste persone ma non sono prigionieri di guerra sono internati militari in realtà è una finzione molto peggio dei prigionieri di guerra infatti Natta dice siamo una via di mezzo tra il prigioniero di guerra e il perseguitato politico l'abbiamo detto della Repubblica Sociale e i campi degli internati militari non si trovano solo in Germania ma in Polonia in Czechoslovakia anche molti di loro sono trattenuti anche nella penisola balcanica in Austria e così via qui vedete alcune immagini di Vittorio Vialli il quale riuscì a realizzare queste immagini con quella macchina fotografica che smontò in mille pezzi e poi rimontò per sottolarla al sequestro da parte dei tedeschi altre immagini la fame la fame è davvero uno dei punti cruciali delle lettere dei diari degli internati militari che avevano una sbobba immangiabile che era una brodaglia dove c'era qualche rapa e soprattutto terra tant'è vero che ci sono due ufficiali molisani che scrivono un libro con tutti i disegni di ricette si forma una fila lunghissima davanti a questa baracca immaginatevi una fila di persone davanti a questa baracca che vogliono vedere questo libro almeno per immaginare dei piatti che si ricordano soltanto nella loro mente e infatti c'è un prigioniero di guerra un internato militare che racconta che all'inizio sognava le donne nei suoi sogni notturni e poi comincia a sognare le tagliatelle gli appelli gli appelli interminabili al gelo molti di questi militari morirono durante questi appelli il lavoro 4 che era durissimo la posta che è importantissima perché e qui c'è una nuova discriminazione tra nord e sud involontaria però gli internati di origine meridionale non riuscivano a corrispondere con i propri cari perché l'Italia del sud era liberata e quindi i tedeschi e i fascisti non consentivano alla posta del sud di arrivare in Germania la propaganda di Salò che cerca di arruolare questi soldati la scelta di resistenza le motivazioni se ne è parlato abbastanza da parte dei precedenti relatori qui vedete alcune delle frasi che dimostrano la consapevolezza anche del no degli internati militari la resistenza culturale organizzarono biblioteche spettacoli teatrali concerti corsi scolastici e così via e uno dei protagonisti fu appunto vedete Giovannino Guareschi insieme ad un napoletano Arturo Coppola grande compesitore e scrissero insieme appunto per esempio la canzone Carlotta che era dedicata alla figlia di Giovannino Guareschi che lui non aveva fatto in tempo a conoscere era nata dopo che lui era stato fatto prigioniero la resistenza della fede perché alcuni furono animati anche dalla fede nel resistere alle brutture è l'orrore della prigionia nazista le radio clandestine ve ne ha parlato la professoressa D'Antuono la scelta degli optanti perché ci fu una minoranza che decise di aderire anche spesso per il ricatto della fame pensate un po' che cosa facevano i tedeschi mettevano i campi di coloro che aderivano accanto ai campi di coloro che dicevano no e così coloro che dicevano no guardavano i loro compagni che avevano aderito che mangiavano che avevano la divisa invernale perché questi poveri soldati furono catturati con la divisa estiva era l'8 settembre avevano ancora la divisa estiva abbiamo qui tanti illustri ufficiali e militari e sanno bene che c'è una differenza notevole e quindi con questa divisa estiva era difficilissimo resistere ai rigori del freddo dei lager nazisti e arriviamo finalmente alla liberazione qui vedete Michele Montagono Michele Montagono è un internato militare ancora vivente ha compiuto 101 anni e scrive alla madre il 16 maggio del 1945 sono finalmente libero ho fatto quanto era mio dovere di soldato e di italiano sono fiero della prova che ho sostenuto e dell'esempio che ho dato e qui vedete rientro in Italia questi vagoni che tornano in Italia che ci sono gli slogan scritti dagli stessi soldati bellissimi viva casa mia è uno slogan bellissimo magri perché tornarono davvero deperiti ma sani e però al ritorno italiano in Italia c'è l'amarezza del rientro perché e lo leggete in questa testimonianza bellissima in questa pagina di diario tutto è cambiato non riesco più a ritrovare l'atmosfera della prima giovinezza mi sento un estraneo nelle compagnie di ragazzi ex partigiani che si ritrovano fra loro a parlare di cose che non ho vissuto nessuno è disposto a considerare la mia storia come Gennaro Iovine loro hanno fatto l'Italia io sono tornato dopo mesi dalla fine della guerra umiliato e sconfitto anche gli imboscati e defilati sono diventati partigiani nell'ultima ora e si sentono salvatori della patria sono tornato ma mi sento depresso non ho lavoro non ho soldi non ho più quelle salde amicizie dell'anteguerra non sento intorno a me nessuna solidarietà nessuna considerazione mi resta solo la famiglia che non può reggere a lungo il peso di un disoccupato la memoria dimenticata solo con Ciampi finalmente si è cominciato le istituzioni hanno dato una grande importanza alla figura degli internati militari adesso ci sono anche le pietre di inciampo e le medaglie d'onore che vengono date soprattutto ai familiari degli internati militari perché la gran parte di loro è purtroppo è morta ci sono stati due storici tedeschi che hanno per primi raccontato dal punto di vista storiografico la vicenda degli internati militari poi è arrivato il libro mio di Palmieri gli internati militari italiani e infine la dedica del libro che è quella di Guareschi che gioca sull'acrostico internato militare italiano e che dice ingannato malmenato impacchettato internato malnutrito infamato invano mi incantarono inutilmente Mussolini insistette iddio mi illuminò eccetera eccetera finché chiude insomma mandatemi Italia Italia mia Italia viva la libertà grazie e allora grazie al professor Avaliano l'altra resistenza in effetti nell'immaginario collettivo ma anche da parte delle forze politiche la resistenza era una cioè noi abbiamo sempre in qualche modo la costituzione nata dalla resistenza laddove invece è passata sotto in silenzio quello che era un altro importante un altro ha scritto molto bene e voglio dire anche il partito comunista non aveva fatto proprio quella cultura perché il partito comunista aveva anche lui ignorato anche i cattolici quella che era invece un'altra resistenza che ha portato credo a 40.000 morti 50.000 50.000 morti tra l'altro 600.000 700.000 persone che avevano sottratto ai fascisti e ai nazisti voglio dire forse anche dal punto di vista militare se naturalmente ovviamente se la percentuale di adesione fu del 15% quindi l'85% di questi 710.000 dissero no se queste centinaia di migliaia che dissero no di militari fossero stati piegati sul territorio nazionale ovviamente le sorti della guerra non sarebbero cambiate però sarebbe durata di più la campagna di liberazione d'Italia ci sarebbero stati più morti più stragi quindi fu un apporto militare molto rilevante quello degli internati militari che poi De Gasperi poter giocarsi sul tavolo delle trattative a Parigi e allora io lascio la parola alla professoressa Gloria Chianese della fondazione di Vittorio che ci parlerà di la resistenza patriottica tra memoria ed oblio prego allora intanto devo organizzarmi con la voce perché in genere dunque ringrazio anch'io tutti gli organizzatori del convegno e faccio un particolare saluto se mi consentite agli studenti che sono in sala alle studentesse agli studenti che sono in sala a cui vorrei proporre nel mio intervento delle considerazioni perché a me tocca un compito un po' diverso cioè quello lì di parlare della resistenza patriottica allora in questo caso non devo parlare hanno già i redatori che mi hanno preceduto hanno egregiamente svolto il discorso della resistenza senza armi patriottissima se possiamo usare questo termine a me tocca un pochino il compito di soffermarmi sulla resistenza dei militari armata quindi non senza armi ma armata che fu un elemento estremamente importante della situazione e questa forma di resistenza patriottica in generale viene fuori da un concetto di resistenza plurale noi dobbiamo in particolare a uno storico che si chiama Claudio Pavone il fatto di aver sottolineato che la resistenza è stata in primo luogo quella lì dei partigiani ma è stata anche quella di altri soggetti se ne sono stati citati diversi negli interventi che mi hanno preceduto la resistenza delle donne la resistenza degli Imi e altre che man mano cercherò di sottolineare il mio compito ben delimitato e su questo vorrei soltanto dare degli spunti è quello di ricordare che questa resistenza dei militari patriottica armata ebbe un valore importante proprio per la situazione di crisi verticale che l'Italia aveva a partire dal crollo del fascismo e in particolare dall'8 settembre e su questo hanno lavorato direi due generazioni di storici da Rochard in poi ma anche tutta la generazione di storici più giovani e non vorrei dimenticare il contributo forte che è stato dato dagli storici dell'ufficio storico delle varie forze armate in particolare l'ufficio storico dell'esercito ora detto questo io vorrei come ultima cosa ricordare che è stato fatto un elenco dettagliato delle medaglie d'oro della resistenza e in questo elenco ci sono tantissimi militari torniamo a una cosa che è stata detta in precedenza l'idea di patria bene allora nell'idea di patria torna il valore fondante della patria come elemento unitario della popolazione italiana nella sua storia quest'idea di patria deve tener conto però di come il fascismo aveva declinato il concetto di patria durante il fascismo che era tutt'altra cosa ed era fortemente legato all'idea di guerra durante il fascismo ci furono una serie di guerre estremamente importanti cito la guerra di etiopia ma non fu l'unica e quindi in questo senso l'idea di patria trova poi nella congiuntura che noi stiamo per esaminare un nuovo modo di essere declinata tra l'altro a quest'idea di patria le leggi razziali avevano dato un colpo forte nel 1938 e visto che ci siamo io vorrei ricordare che le leggi razziali avevano colpito moltissimo le forze armate cioè soldati ufficiali ebrei erano stati allontanati dalle forze armate nel migliore dei casi costretti alle dimissioni e questo guardate ha molto a che vedere con l'idea di patria perché la minoranza ebraica italiana aveva dato un grosso contributo a al risorgimento b alla prima guerra mondiale cioè la minoranza ebraica o ebrea insomma ebraica italiana aveva combattuto bene nella prima guerra mondiale e quindi a tutti gli effetti si sentiva pienamente in diritto di essere cittadini e militari come gli altri le leggi razziali intervennero con questa discriminazione e ci sono vari esempi di suicidi io ne cito soltanto uno cioè quello del colonnello Giorgio Morpurgo su cui peraltro c'è tutta una storia complicata che magari racconteremo in altra sede l'idea di patria ci rimanda anche a un secondo elemento cioè il rapporto forte tra forze armate e monarchia nella tradizione italiana le forze armate in particolare l'esercito ma in particolare per esempio i carabinieri avevano un rapporto di sedeltà fortissimo con la monarchia con istituzione monarchica e questo la dice lunga su due cose uno di quanto fosse grave la responsabilità della monarchia di aver firmato le leggi razziali nel 1938 di e anticipo un poco ma è necessario che lo dica nella scelta di non aderire alla repubblica sociale nella scelta degli Imi c'è anche e importante una componente di lealtà verso l'istituzione monarchica quindi c'è quest'idea di patria che si declina anche come fedeltà al re e questo è un elemento importante che peraltro ci dobbiamo ricordare quando poi ci sarà il referendum del 2 giugno 1946 chiedendoci per chi votarono i militari poniamola così in maniera semplice semplice ora dopo l'8 settembre noi abbiamo quindi una modalità forte di resistenza patriottica armata io ho segnato quattro tipologie di questa resistenza ci sono gli episodi di resistenza patriottica dei militari al ridosso dell'8 settembre in Italia e all'estero c'è la resistenza organizzata di militari c'è il fronte clandestino militare della resistenza a Roma che ha un ruolo estremamente importante ci sono dei brigati autonome nella resistenza e poi l'ultimo l'ultima modalità è il ricostituito esercito italiano nel regno del sud cioè nel regno del sud ci fu un un esercito italiano che fu ricostituito il corpo italiano di liberazione che ebbe un ruolo importante su cui poi torneremo e che comunque va considerato nel panorama del discorso che stiamo facendo allora io non vorrei dilungarmi troppo meglio che mi si avverte dieci minuti prima allora come resistenza a ridosso ci sono gli esempi notissimi di Porta San Paolo a Roma è vero il 10 settembre che vengono subito dopo la mancata difesa di Roma però ci sono questi tentativi di difesa in cui ci sono civili e militari tra i militari c'è la divisione Sassari e ci sono i granatieri di Sardegna quindi è molto importante questo episodio e poi c'è l'esempio di Cefalonia della divisione Acqui che credo sia stato citato più volte e che è un esempio molto importante perché implica una difesa comune tra ufficiali e soldati il generale Gandino ma tutta la sua truppa e attenzione l'ecidio di Cefalonia non fu opera di SS ma fu opera di reparti della Wehrmacht questo anche è estremamente importante perché quindi è l'esercito tedesco nel suo insieme che viene coinvolto dunque io chiedo scusa agli studenti però non mi soffermo a descrivere dettagliatamente questi episodi do un po' per scontato che i fatti si sanno se no non la finisco più insomma perché vi addormentate tutti e buonanotte io personalmente ho fatto un lavoro di indagine su questi episodi a ridosso nel mezzogiorno e nel libro che è uscito ormai diversi anni fa quando uscimmo da rifugi per esempio ci sono degli episodi di resistenza molto importanti della difesa del porto di Bari ad opera del generale Nicola Bellomo e ne dobbiamo parlare ne dobbiamo parlare perché poi Bellomo fu accusato dagli ingressi di aver sparato su dei militari su dei militari ingressi e su dei militari ingressi e ci fu tutta una storia per cui Bellomo non solo non ha mai avuto il riconoscimento né nessuna medaglia d'oro ma fu fucinato ebbe la medaglia d'argento al valore militare dopo poi ci sono gli episodi di Barletta del quindicesimo reggimento costiero vicino Napoli c'è scusatemi c'è la fusilazione dei 16 carabinieri che avevano difeso il palazzo dei telefoni a Napoli e che è uno dei primi episodi che dà vita poi alle quattro giornate c'è l'episodio del 48esimo reggimento artiglieria di Nola e poi il generale Ferrante Gonzaga comandante della 22esima divisione costiera di Buccoli Michele Ferraiolo del 16esimo reggimento costiero di Maddaloni e così via questo per dire che se noi andiamo a fare un'indagine a tappeto anche nel mezzogiorno c'è una tipologia molto importante di resistenza al ridosso degli episodi dell'8 settembre poi c'è ancora una la citerò proprio a volo d'uccello la battaglia di Bosco Martese che si ha il 25 e 26 settembre nelle vicinanze di Teramo questo è interessante perché è una vera e propria battaglia in cui ci sono militari civili ma ci sono anche prigionieri che sono scappati dai campi di internamento che sono americani e inglesi la battaglia ha un significato importante come tutti gli altri episodi che ho citato finisce con la sconfitta cioè sono degli episodi eroici ma sono tutti episodi destinati alla sconfitta perché e su questo poi dovremmo ragionare nascono da una reazione immediata che però non è una reazione in qualche modo organizzata e strategicamente efficace e quindi vuol dire che c'è questo aspetto di eroismo da non sottovalutare per il discorso che si faceva prima c'è chi disse no poi vorrei soltanto citare un fatto un ultimo fatto che come nelle quattro giornate così anche nelle altre rivolte che ci sono nel mezzogiorno Matera Lanciano eccetera oltre i civili ci sono i militari cioè anche nelle quattro giornate c'è una presenza diffusa di militari che non va sottovalutata anche perché chi è che sapeva combattere sapevano combattere i militari l'altro elemento che volevo sottolineare l'altra tipologia sono il rapporto militare resistenza qui citerei soltanto due esempi il fronte militare clandestino della resistenza che è presente a Roma e che ha una figura molto importante nel Giuseppe Lanza Cordero di Montezemolo il quale organizza questo fronte che poi avrà una rete ramificata che si espanderà in tutte le regioni dell'Italia centrale e questa figura di militare è molto bella ed è anche significativa lui poi morirà alle fosse ardiatine ed è estremamente significativa perché era stato fascista aveva combattuto nella guerra di Spagna e poi si rende conto e ritorna il discorso della lealtà alla monarchia come elemento fondamentale che è importante resistere ed è una figura interessante proprio perché rappresenta poi una capacità di organizzare una rete che è in contatto con la monarchia con il regno del sud che si è costituito a Napoli poi ci sono i militari nelle formazioni partigiane cioè che aderiscono e che hanno un ruolo importante nelle formazioni partigiane e qui vorrei citare Pompeo Polaianni che figura di primo piano delle brigate Garibaldi Pompeo Polaianni che era di origine siciliana si trova in Piemonte e appunto ha una funzione di massimo rilievo nelle brigate Garibaldi e il suo nome di battaglia era Nicola Barbato chi è Nicola Barbato Nicola Barbato è un dirigente dei fasci siciliani quindi un militare capo insomma un comandante delle forze e delle brigate Garibaldi sceglie come suo nome di battaglia come suo persononimo di richiamarsi all'antica tradizione siciliana dei fasci di fine secolo e questo è un elemento molto importante poi ci sono dei brigati autonome ora queste brigate autonome hanno un ruolo importante nella resistenza che tiene conto di una loro particolare fisionomia le brigate autonome sono fondamentalmente apolitiche quindi sono diverse dalle brigate Garibaldi e dalle brigate Matteotti e delle brigate di giustizia e libertà che invece si rifacevano a comunisti azionisti e socialisti sono molto legate alla monarchia quindi c'è un nesso forte con l'istituto monarchico e non c'è la figura del commissario politico che invece troviamo nelle altre brigate infine vorrei sottolineare altre due cose un minuto per ognuna prometto la prima è ci vorrebbe un discorso lungo noi abbiamo una presenza di militari nella resistenza all'estero e cioè nella resistenza in Yugoslavia nella resistenza in Grecia pure se molto controversa e nella resistenza in Albania si è soffermato su questo problema in particolare Ilio Muraca e il discorso è molto complesso io lo accenno solo perché richiama al fatto che gli italiani fino all'8 settembre del 1843 erano stati esercito occupante di questi territori con gli enormi problemi che ciò comporta perché gli italiani sicuramente se noi pensiamo a figure come Mario Roatta come Bastianini e così via erano stati occupanti a tutti gli effetti con il dannesso di stragi di civili persecuzioni eccetera eccetera anche se poi ma questi altri lo faranno meglio di me l'esercito italiano si era poi distinto in particolare in alcune regioni come la Dalmatia e il Montenegro per la difesa degli ebrei e anche degli islavi ora quindi questo vuol dire che noi abbiamo una situazione molto complessa perché gli italiani sono da una parte esercito occupante dopo l'8 settembre si trovano in una condizione che è disfascio e quindi c'è tutto il discorso che è stato fatto prima e in più c'è la scelta di alcuni di partecipare alla resistenza sia in Jugoslavia sia in Albania sia con molta difficoltà in Grecia dico con molta difficoltà perché i partigiani Jugoslavia Albanesi e Greci potevano anche guardare con molto sospetto a questa partecipazione italiana è un discorso molto complesso io l'accenno soltanto l'ultima cosa che volevo dire è che abbiamo invece nel regno del sud cioè quello stato che viene con il saterello che viene costituito e che di fatto è lì con la presenza decisiva dell'amico alleato esercito angolo-americano bene allora anche qui noi abbiamo un ricostituito esercito italiano e c'è il primo raggruppamento motorizzato che è impegnato fin dall'inizio e poi noi abbiamo il corpo italiano di liberazione e poi sei gruppi di combattimento che parteciparono anche a delle operazioni importanti man mano che gli angolo-americani soprattutto gli inglesi risalivano nella penisola accanto a questi cioè a delle unità combattenti italiane in questo rinato piccolo esercito italiano abbiamo però una scelta degli alleati anglo-americani diversa cioè noi abbiamo un sacco di prigionieri italiani ma proprio anche che si sono consegnati per esempio in Sicilia si consegnarono un sacco di militari italiani allora gli alleati in particolare gli inglesi scessero che questi questa manovra insomma questi soldati e soprattutto soldati diventassero cooperatori cioè dopo l'8 settembre non erano più prigionieri perché c'era stato l'armistizio e l'Italia era co-beligerante ma potevano scegliere di essere cooperatori che significa e ausiliari significava che tanti italiani furono formati addirittura a 25 battaglioni se non ricordo male non combattevano ma avevano un'attività di tipo logistico cioè le trincee tutto ciò che serviva dietro i combattimenti e questo perché in particolare dagli inglesi non c'era la volontà che l'esercito italiano fosse in prima linea a fianco degli inglesi e degli americani allora su questo e termino il mio intervento vorrei leggervi ed è l'unica cosa che vi leggo una bella testimonianza di militari italiani che si trovano nei campi sosta come cooperatori e che invece chiedono di combattere e quindi di essere non di stare nelle elettrovie ma di combattere in particolare c'è una lettera di un militare che scrive che si trova fermo in un campo di si chiamavano campi di assistenza campi sosta a capo e che scrive ad una ragazza di capua che è una militante del Ludi chiedendo di intervenire di fare in modo che la sua richiesta di voler andare a combattere in prima fila venga accettata e qui ritorna il tema che è stato detto più volte negli interventi precedenti dell'onore militare e dell'antica tradizione dei militari italiani della prima guerra mondiale e andando ancora più indietro del risorgimento dice Maria il motivo che mi spinge a scrivere la presente è che tu sei l'unica a cui posso rivolgermi quando si partì da Roma si sognava che ci fosse tanto lavoro da fare si sognava tante cose ma tutte illusioni siamo fermi in una caserma che fa pietà e in cui anche una bestia rifiuterebbe abitarci Maria ti prego non lasciar passare un giorno da quando ricevi la mia lettera un solo giorno può essere la rovina mia e di qualche altro compagno tu non devi far altro che far pervenire al ministero della guerra questa domanda che ti inviamo spiegando che non si vuole inviare per via gerarchica perché c'è tanta gente che non vuole si vada a combattere così faremo i soldati e non i vagabondi straccioni quando siamo ridotti ora e se potremo combattere quando saremo in linea avremo un pensiero di ringraziamento per te e per le tue compagne grazie 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 perché si è tenuta ai tempi qui c'è qualche momento di di ragazzi devono andarsene allora un minuto e aspettiamo un minuto grazie a voi allora se avevo un bicchiere grazie grazie anche nelle scuole che sto all'università ma le scuole hanno fatto già un lavoro in precedenza chi lo fa sì venite è andata alle scuole allora noi riprendiamo è un'aula che i movimenti sono percepiti e quindi allora io dicevo ringrazio la polizia secchianese che ha confermato anche questa non omogenità delle situazioni che in qualche modo vedevano delle persone che poi hanno avuto con grande ritardo di conoscimento e mi prendo un minuto per attualizzare dal punto di vista giuridico perché nella lettura che ho fatto io non sono uno storico ma sono un giurista ho visto che la problematica dell'Imu è una problematica attuale rispetto alla quale probabilmente la disattenzione della politica è legata anche a una certa conflittualità internazionale che rimane sospesa per il riconoscimento di un ristoro per le sofferenze epatite di un doveroso riconoscimento nei confronti degli Imu che ha determinato ormai da tanti anni questo conflitto con la Germania che ritiene aver soddisfatto con il trattato di pace del febbraio 47 e soprattutto quello di Bon del 62 che aveva consentito all'Italia di ottenere qualche ristoro riferito però a persone fisiche e persone giuridiche cosa che ha determinato e mi sembra di localizzare intorno agli anni 90 una giurisprudenza di merito di Imu e soprattutto di familiari di quelli che hanno ritenuto di dover avviare un'azione giudiziaria una credo miriade di sentenze di condanna nei confronti dei tedeschi del governo tedesco che ha portato il governo tedesco a chiedere ragione alla corte internazionale di giustizia sentenza del febbraio 2012 che condanna l'Italia per non aver rispettato il principio consuetudinario dell'immunità degli stati dalla giurisdizione civile straniera consentendo che venissero intestate azioni civili contro la Germania presso i tribunali italiani però invitando le parti a trovare un accordo interviene la corte costituzionale e Andrea Patroni ha citato questa importante sentenza 238 del 2014 il relatore Giuseppe Tesauro che applicando questa teoria dei controlimiti in forza della quale viene inibito l'ingresso nell'ordinamento nazionale a norme in questo caso decisioni di rango internazionale quindi comprensiva della sentenza della corte internazionale di giustizia per le quali la corte stessa ravvise un contrasto con i principi costituzionali fondamentali e quindi interviene il costituzionalista quindi la corte costituzionale dice ma la decisione della corte di giustizia viene a incidere su principi inderogabili principi fondamentali e quindi il diritto dei dei IMU e quindi intervengono altre sentenze dei giudici di merito la Germania fa nuovamente ricorso alla corte internazionale di giustizia arriviamo ai nostri giorni PNRR decreto legge Draghi che in uno di questi articoli l'articolo 43 del decreto legge 36 2022 che è stato convertito in legge 79 del 2002 dispone con fondi PNRR il risarcimento del IMU prevedendo però delle condizioni stringenti cioè individua una finestra tutti coloro che hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato entro un termine se ricordo bene di 180 giorni entrato in vigore di questo decreto legge e quindi escludendo non solo coloro che non hanno avuto sentenze ma si è in giudicato ma sono ancora al primo o al secondo grado escludendo anche chi chi voglia determinando quindi delle proteste credo che alcuni giudici hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale quindi la vicenda degli IMU è una vicenda che non è stata risolta che la politica Ciampi in qualche modo aveva dato l'input la legge 211 aveva dato l'input ma la politica per ragioni probabilmente di diritto internazionale e c'è la Germania che in qualche modo si contrappone io ricordo anche di altre vicende lo diceva di Emilia forse una volta lo inviteremo questo giudice Paolo Albano che ha trattato la sentenza per l'ecidio di Cagliazzo e la Germania si era opposta all'estradizione del militare generale che aveva commesso questo diritto quindi c'è un problema con la Germania che riguarda sia la Shoah ma riguarda anche l'Imu e rispetto al quale il nostro paese è ricorso a un decreto legge non avendo la responsabilità perché è responsabile la Germania non è l'Italia Draghi ha cercato di mettere una pezza a colori come noi diciamo per cercare di completare perché c'è un problema con la Germania in atto rispetto a cui l'Italia non so si sente un po' debole probabilmente però è un problema attorno cioè è un problema rispetto al quale discuterne pubblicamente non sarebbe male perché è un problema che voglio dire non deve soddisfazione di chi la storia dice sono degli eroi ma la politica per molti motivi abbiamo problemi con l'Egitto per altre ragioni per altri motivi la politica la real politica però ci sono dei diritti fondamentali la Corte Costituzionale ha detto è un diritto fondamentale e rispetto al diritto fondamentale la politica deve dare conto purtroppo il costituzionalista quante sentenze della Corte Costituzionale rimangono disattese e questo è un altro spartito però è un tema questo che rispetto ai quali giuristi ho notato una certa disattenzione non a caso la sentenza noi la conosciamo nella Corte Costituzionale però il problema IMU non lo affrontiamo di petto con i giuristi perché qui ci sono problematiche civilistiche costituzionalistiche e internazionali rispetto alle quali bisognerebbe fare una messa a punto detto questo io lascio assolutamente la parola al comandante del comando forze operative sud dell'esercito italiano Giuseppe Nicola Tota che ci parlerà invece di un'altra e un altro eroismo di Maurizio Lazio dei Castiglioni che diciamo è un eroe che risale nei tempi Libia la prima guerra mondiale e poi la seconda guerra mondiale l'armistizio anche lui fa emergere l'eroismo per aver difeso e salvato molti ebrei in Francia dove c'era la Repubblica Vichy che in qualche modo interferiva ma lui ha creato una barriera per salvare e quindi una figura emblematica molto interessante che ci ricollega questa volta alla sessione pomeridiana e anche alla sessione di questa mattina perché è un militare anche lui si era opposto ai tedeschi era ritornato nell'Italia del sud per in qualche modo partecipare alle azioni degli angoli americani però rispetto alle cose di cui abbiamo parlato questa mattina della Shoah è un eroe anzi è un giusto rispetto a cui ci parlerà la comandante tolta prego grazie mi è impressionato vedere questi studenti che come un solo uomo si sono alzati per per andare via e non voglio sembrare polemico però lo so no 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 lasciatevi voglio arrivare non è questo il problema come diciamo come premio i giovani che sono rimasti capiranno che stiamo parlando di giovani perché quelli lì di 80 anni fa avevano la vostra stessa età e quando le cose si fanno dure e bisogna menare e bisogna mettere il proprio petto no a difesa dei valori chi ci rimette è il ragazzo chi ci rimette sono sempre i giovani il mini tegnoto non era uno di 50 anni di 40 anni era un ragazzo di 18 anni quello che sta lì è all'altare della patria stiamo parlando di giovani perché alla fine ci rimettono sempre loro ci rimettono sempre loro ecco perché io dico che i giovani su questi argomenti devono essere i primi a essere interessati devono essere i primi a essere interessati forse ai giovani manca l'esempio che la mia generazione non gli sa dare e questa è la critica che io faccio alla mia generazione la legge del 2000 dove il professor romano è stato relatore dice che il 27 gennaio di ogni anno in Italia bisogna ricordare la giornata della memoria non mi ero andato a leggere la legge perché normalmente faccio il mio colpa non ci interessano queste cose qui andiamo al rimorchio di tante cose però la legge dice di ricordare quattro categorie la legge dice di ricordare gli ebrei la legge dice di ricordare i militari la legge dice di ricordare i perseguitati politici e la legge dice di ricordare quelli che nel pericolo hanno rischiato la vita oppure hanno dato la vita per difendere gli ideali e salvare gli ebrei questo dice la legge domanda avevamo capito questo domanda ci comunicano questo mi ha fatto piacere in questo pomeriggio parlare di inni ma qualcuno ce ne ha mai parlato vi faccio una domanda qui c'è anche una polemica dentro ma di queste categorie sappiamo il peso di ogni categoria e attenzione io voglio essere rispettoso di ognuno perché anche l'unica persona che perde la vita come dice qualcuno la perde l'umanità quanti sono gli ebrei italiani morti in campo di concentramento qualcuno lo sa sono 5.869 lo trovate sul sito della comunità ebraica di queste persone si sa nome cognome e indirizzo tutto si sa di queste persone i perseguitati politici sapete quanti sono 10.129 e sapete quanti sono i militari circa 51.000 il problema non sono i 51.000 il problema per me è accettare il circa perché da quel circa si capisce quanto poca cura noi abbiamo messo per ricordare questa gente che è molto più vicina a noi molto più vicina a noi delle altre categorie non sto facendo razzismo sto facendo un discorso molto chiaro per far capire che queste questioni sono molto più vicine a noi ce l'hanno detto prima qualcuno ha scoperto di avere il padre Imi e non lo sapeva ma ci rendiamo conto ci rendiamo conto sapete quanti sono i napoletani che sono stati Imi 4.300 circa sapete i napoletani che sono morti da Imi ed erano tutti ragazzi stamattina abbiamo dato la medaglia alla zia di un diciannovenne è venuto con la fotografia mi ha commosso come mi commuove in questo momento è venuto con la fotografia di questo ragazzo bellissimo un napoletano bellissimo di 19 anni sapete quanti sono sono 240 ma qualcuno ne ha mai parlato qualcuno ci ha mai raccontato queste cose del mio paese 80 nessuno mi ha mai ricordato questo eppure erano così vicino a noi detto questo finisce questa polemica che vuole essere uno sfogo e vi devo parlare della quarta categoria cioè di chi ha rischiato la propria vita per difendere e per salvare ebrei è stato un caso per me perché come eccolo qui come uso dire tu citi e leggo perché voglio andare veloce e voglio dirvi tutto e consentitemi questo dal punto di vista psicologico io vi aiuto perché ho messo il numero delle lastrine che sono 38 non so se mi sono spiegato quindi andrò veloce col testo e con le lastrine che Michele mi farà girare poi farò delle domande sto scherzando tu citi Maurizio Lazzaro De Castiglioni e ti aspetti una reazione di positiva approvazione almeno in ambito militare e invece niente chi è Maurizio Lazzaro De Castiglioni ma come dici il generale quello che è stato il primo comandante di Ftase il comandante nato in Italia a Verona quello che è in Francia e invece niente non succede niente perché non lo conosce nessuno e avrei detto la stessa cosa io fino a due anni fa fino a quando casualmente mentre svolgevo l'incarico precedente a Verona in quello stesso ambiente che vedete lì in quella fotografia mi sono imbattuto in questa fotografia e quindi da questo momento in poi ci sono una serie di coincidenze che mi hanno spinto ad approfondire questa situazione questo personaggio come vedete qui c'è Maurizio Lazzaro De Castiglioni che è quello un po' panzuto lo vedete sulla sinistra con tutto il rispetto che sta salutando con la sinistra un ufficiale francese e un comando della Nato gli ho detto perché questo sta salutando con la sinistra qual è il problema e allora vado sul sito e digito Maurizio Lazzaro De Castiglioni e trovo questo articolo è un articolo fatto da Furio Colombo nel maggio del 1995 ma non basta vai avanti e poi mi accorgo che Maurizio Lazzaro De Castiglioni aveva operato a Grenoble e gemellato col mio paese perché stanno tutti lì a lavorare o almeno una buona parte e quindi approfitto di questi contatti con i miei compaesani a Grenoble e poi ne parlo subito dopo con un mio compagno di corso d'accademia ad Alberto dico guarda Ad Alberto ho trovato questo Maurizio Lazzaro mi ha detto dammi cinque minuti e mi manda questo cartoncino con questo cartoncino che è del figlio di Maurizio Lazzaro che scrive proprio ad Ad Alberto arriverò alla famiglia ma non basta poi a Verona mi veniva a trovare continuamente un signore anziano franciosa no e a un certo punto mi dice di suo padre che aveva fatto il servizio militare e era stato con Maurizio Lazzaro dei Castiglioni perché sono andato a trovargli il fascicolo matricolare che è questo un'altra coincidenza e ancora andiamo avanti ed ecco la fotografia di Maurizio Lazzaro dei Castiglioni che era il comandante in Sicilia mentre mio padre faceva il servizio militare c'è qualcosa che mi ha spinto potete anche capire perché a portare avanti la situazione quando il tenente dei Castiglioni perde la destra era un tenente che aveva fatto già la Libia decorato più volte in Libia quindi stiamo parlando del 1911 già aveva fatto le sue prime battaglie entra tenente ancora prima guerra mondiale e durante una operazione perde la mano destra ecco dove con una bomba però lui nelle note caratteristiche sono andato a trovare il fascicolo matricolare lui viene dipinto come un trascinatore un leader vero uno che esce dalla trincea portandosi dietro i suoi alpini era un alpino e vedete lì diciamo le vere decorazioni cioè quelle che contano non come adesso quelle che contano le vedete sul suo petto lanciò i suoi uomini alla baionetta avanzando coraggiosamente per primo era un un vero comandante no? pensato il coraggio che ci vuole a fare una cosa del genere e quando gli uomini ti seguono significa che dietro c'è leadership diciamo noi c'è vera azione di comando c'è coesione un bel esempio eh dopo la guerra e dopo essere rimasto mutilato lui diciamo ottiene di rimanere in servizio si sposa dopo aver avuto il permesso dice reggio e mette su famiglia due figli che abbracciano tutte e due la carriera militare Vittorio e Camillo che non ci sono più ho incontrato i nipoti e lui diciamo continua il servizio diventa ufficiale di stato maggiore diciamo ma fino a questo momento ce ne sono tanti che hanno avuto di questo di questa carriera ciò che fa la differenza in Maurizio Lazzaro De Castiglione è quello che accade durante la seconda guerra mondiale quando gli danno il comando della divisione alpina pusteria io sono riuscito anche a trovare il suo liceo e ho dato è stato veramente interessante ho dato a questi giovani di Alba del liceo classico di Alba questa testimonianza che devo dire è stata accolta con grande entusiasmo e sapete la battaglia di El Alamein quindi stiamo parlando dell'ottobre del 1942 le cose si mettono completamente male per l'Italia in Africa settentrionale ma quasi contemporaneamente le cose si mettono male anche in Russia perché ieri c'è stata diciamo l'anniversario di Nikolaevka la battaglia di Nikolaevka è quella che conclude le nostre operazioni in Russia nel senso che si raggiunge Nikolaevka tutti quelli che riescono a salvarsi e arrivano e poi se ne rientrano in Italia in questo momento storico preciso gli italiani e i tedeschi pensano che oramai è arrivato il momento in cui bisogna porre in atto un piano che effettivamente già c'era c'è la possibilità di uno sbarco degli alleati nel sud della Francia allora vedete lì questa è importante questa cartina che si trova in giro quando noi entriamo in guerra contro la Francia alla fine noi occupiamo la zona gialla la vedete che è una zona molto ristretta praticamente a cavallo delle Alpi nel momento in cui la Germania occupa la parte in arancione e la Francia di Vichy che era un regime collaborazionista si mette giù nel meridione ed è quello viola nel momento in cui si decide di opporsi a un eventuale sbarco cosa succede? I tedeschi occupano la parte della zona libera e lasciano agli italiani quell'altro settore a ridosso del giallo che è tratteggiato che arriva più o meno a Grenoble vedete lì Nizza per cui chi erano questi che occupano quella zona? Erano soldati in questo caso della divisione Pusteria che avevano già combattuto in Albania quindi avevano già fatto le loro esperienze quindi andare lì ad occupare il sud della Francia per loro è stato quasi un gioco da ragazzi perché non c'era opposizione di un nemico però si aveva diciamo sicuramente certezza di un movimento partigiano che c'era ed era incombente in questo momento si pongono i primi problemi con la gestione degli ebrei e siamo arrivati al nostro caso nel senso che con l'occupazione della Francia libera i prefetti francesi i prefetti francesi iniziano a voler rastrellare gli ebrei della Francia libera per portarli nei campi di concentramento in questo trovano deciso decisa opposizione dei nostri che dicono e fanno notare che il problema degli ebrei il problema dell'ordine pubblico nel loro settore era un problema tutto italiano in questo c'erano state delle comunicazioni ufficiali fra governi quindi il governo italiano anche in questo caso aveva detto e aveva dato disposizioni ai militari ma l'avevo detto anche alla Germania e alla Francia di Vichy che il problema dell'ordine pubblico in in quel settore d'occupazione era un problema italiano era accaduto già nel luglio del 42 quando il console italiano a Parigi si era opposto al rastrellamento degli ebrei italiani residenti a Parigi e questo è il velodromo di Verre e questi ci sono dei documenti su questo argomento vai avanti avete capito che sto andando più veloce senza ecco quando ho mandato la figlia di un mio caro amico a Grenoble a trovare dei documenti c'è stata una sorpresa per me la mia sorpresa è stata che mentre in Italia di questa figura nessuno ne ha mai parlato l'hanno fatto in pochi al museo della resistenza francese un angolo è dedicato a Maurizio Lazzaro de Castiglioni ma è possibile una cosa del genere cioè dico io ma è possibile una cosa del genere e voi sapete pure i francesi come pure sono nei nostri confronti questo è un documento che ho trovato lì ed è la lettera che Maurizio Lazzaro de Castiglioni scrive al prefetto di Grenoble dicendogli tu non ti devi permettere di prendere iniziative nei confronti degli ebrei perché è roba mia e anche se ci sono aggiunge lì a Pen dei problemi di natura penale nel senso che troviamo degli ebrei che hanno dei problemi con la giustizia ti devi coordinare con me e glielo dici a brutto muso e gli ricorda ecco perché è importante anche questo documento io tutta questa roba ve la lascio come il mio intervento come testo per cui potreste anche senza prendere appunti è importante perché lì dice come il mio governo ti ha detto come il mio governo ha detto al tuo governo vai avanti questo è un altro documento sempre presente negli archivi francesi a Grenoble che parla di un altro argomento come vedete in francese vai avanti ecco tutto questo siamo nella nella primavera del 43 le cose si stanno mettendo male ma tutto questo mette in evidenza un problema cioè fa emergere un problema cioè c'è un una completa disarmonia fra quelle che sono il comportamento dei tedeschi e quello che è il comportamento dell'alleato maggiore cioè degli italiani tanto che Ribbentrop l'11 mazzo del 43 si rega da Mussolini a dire caro Duce qui le cose non vanno avanti perché i tuoi generali non stanno facendo quello che devono fare cioè collaborare qualche giorno dopo il 17 marzo e l'ambasciatore che si reca ancora da Mussolini e dice i tuoi generali sono un po' troppo umani nei confronti degli ebrei devi prendere un provvedimento adesso se capitasse qualcosa del genere in questi giorni il ministro della difesa direbbe a me dice general vai a casa te ne mando un altro nel senso sarei destituito lo pensate 80 anni fa tutto questo non avviene e cosa succede viene mandato in Francia quel signore lì è un signore che se voi andate a leggere la storia di Guido lo spinoso è una storia un po' controversa però in Francia lo considerano perché in Francia va con il mandato di andare a fare chiarezza ma in realtà non fa altro che perdere tempo quello che ottiene è di mettere gli ebrei non in campo di concentramento ma in quartieri a parte ma non c'è nessuna perseguzione prego un altro personaggio che si che si dà da fare in quell'ambito è quest'altro signore qui lo vedete è Angelo Donati Angelo Donati ha ricevuto in Francia a Nizza sulla via principale di Nizza c'è una targa che è quella lì che ricorda Angelo Donati Angelo Donati è un signore di Modena di origini ebraiche ho fatto notare al sindaco di Modena che a Modena nessuno lo conosce che a Modena nessuno ha lasciato una lapide che a Modena non si curano di Angelo Donati che ha rischiato la vita per salvare ebrei in combutta diciamo così con le autorità militari che controllavano lui organizzava viaggi di ebrei da Nizza con le navi diciamo come direbbe a Napoli ahum ahum c'è pure una c'era una canzone che dice ahum ahum lo dico un attimino per tirare su il morale pensate ecco un'altra cosa molto interessante ho detto al sindaco Muzzarelli ho detto Gianfranco però non puoi permettere una cosa del genere no? non so perché sembra che qualcosa si stia muovendo fammi vedere la prossima lastrina e questa è una lettera che io ho trovato quando ho letto questi documenti quando ho letto quell'articolo che vi ho detto di Furio Colombo è quello che qualcuno dice una lettera di un ebreo che scrive un ebreo che sta fuori dalla zona italiana leggete un attimino quello che dice ma non è bello sentirsi dire una cosa del genere come italiani ma perché noi non le diciamo queste cose qui le dicono all'estero vai avanti cade il governo cade Mussolini quindi siamo arrivati al 25 di luglio è stato accennato è stato un disastro perché anche anche se i tedeschi un piano ce l'avevano e l'hanno messo in atto noi non siamo stati capaci di farlo c'è una letteratura dietro possiamo discutere quanto vogliamo però è quello che accade e da quel momento in poi le cose cambiano le cose cambiano perché non c'è una direzione vai avanti cosa accade quelli che erano stati diciamo tutelati dagli italiani e voi pensate che a un certo punto gli italiani Maurizio Lazzaro dei Castiglioni ha schierato un battaglione di alpini intorno a una prefettura e gli ha detto o rilasci o io ti arresto e ti deporto io e questo ripeto sono tutte testimonianze di ebrei francesi e cambia la situazione l'8 settembre e la divisione Pusteria è costretta a rientrare in Italia e rientra in Italia portandosi dietro migliaia di ebrei la gran parte però era stata già tutta agevolata ed erano andati via verso la Svizzera oppure attraverso le navi condonati ripeto queste non sono cose che dico io sono tutte cose storiche che ho trovato ed è interessante è interessante questo è un dato che devo leggere perché con l'arrivo dei tedeschi nella zona occupata dagli italiani 729 persone vengono fucilate con l'arrivo dei tedeschi 3.057 furono deportate e 1877 non tornarono più durante l'occupazione italiana fu fucilato solamente un francese che aveva fatto un attentato dentro un autobus provocando la morte di diverse persone l'Italia quella è stata l'unica persona che diciamo ci ha rimesso Maurizio Lazzaro De Castiglioni come stiamo con i tempi? dai mi concedete di terminare Maurizio Lazzaro De Castiglioni lo vedete qui si autorizzano a provare un minuto e Maurizio Lazzaro De Castiglioni vedete diventa poi fa carriera diventa il primo comandante delle forze Nato in Italia a Verona e lo vedete qui con Heisenhower prima stava con Montgomery lo vedete lì la mano gli manca vai avanti questo è una testimonianza che Gabriele Nissim che la nostra professoressa conosce e che dice questo vi invito a leggere perché anche qui c'è una piccola polemica e la fa con una persona rivolgendosi a una persona molto importante lo dice lui non l'ho detto andate avanti del problema dell'occupazione e quindi della salvaguardia degli ebrei in totale si parla di 9000 ebrei salvati da Maurizio Lazzaro De Castiglioni e se ne sono occupati soprattutto i francesi che l'hanno testimoniata in questo libro qui che vi faccio vedere vai avanti con questi articoli fatti in Italia e soprattutto li trovati in questo sito che è di Garivo che è una istituzione che si occupa proprio dei giardini dei giusti vai avanti e poi c'è questo articolo che vi ho fatto vedere io di Furio Colombo che è molto interessante è stato il primo indizio lui lo faceva e ha descritto una giornata di studio che la comunità ebraica a New York nel 1995 a maggio del 1995 aveva promosso per parlare di Maurizio Lazzaro De Castiglioni dicendo molte delle cose che vi ho detto in Italia non c'è stata nessuna reazione purtroppo purtroppo vai avanti sono delle altre testimonianze che che vengono date vai avanti perché poi ci sono altre cose molto più interessanti che vi dico ecco e questo libro qui purtroppo lo abbiamo esaurito è un libro che casualmente l'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'esercito ha trovato qualche anno fa negli anni 90 scritto da da un israeliano Menachim Shelah scritto in ebraico e con quel titolo un debito di gratitudine storia dei rapporti tra l'esercito italiano e gli ebrei in Dalmazia lui non l'ha fatto per pubblicarlo in Italia l'ha fatto casualmente è stato trovato tradotto in in italiano ed è sorprendente questo libro questa è l'ultima copia però avrei piacere anche di fornirvelo perché me lo sono come dicono adesso scannerizzato è sorprendente è sorprendente perché lui in sintesi si chiede come mai gli italiani che sono quelli che si sono più dati da fare per salvare ebrei lo dice lui non lo dico io no? perché gli italiani queste cose non le riconoscono perché Sandro Pertini nonostante il Parlamento israeliano si sia arriccato da lui e poi tira fuori un'altra un'altra figura di giusto vai avanti che è questo qui ne parla lui voi mi direte e chi è questo? come si dice in napoletano chi è questo? chi è questo? sì perché è napoletano è di capua lo conoscono nei Balcani e lo conoscono gli ebrei che sono stati salvati da lui era il comandante della divisione Marche Giuseppe Amico non lo conosciamo nemmeno noi perché noi abbiamo delle caserme dedicate a lui lui viene giustiziato dai tedeschi dice lui ce l'ha perché aveva salvato 4.000 ebrei e lui dice ma perché non ne parlano in Italia? perché è una figura del genere? era sepolto fino a poco tempo fa in Dalmazia dove lo conoscono ed è stato portato medaglia d'oro al valore militare in al al cimitero dei caduti da oltremare a Bari di Capua vai avanti questa è un'altra testimonianza però vai avanti ecco io suggerisco un altro documento molto interessante che è questo film qui che voi trovate online il nemico buono lo si trova anche in versione italiana consiglio anche questo perché la testimonianza di gente che oramai non c'è più che dice quanto bene hanno fatto i nostri nonni e i nostri padri in quelle occasioni queste sono storie che noi abbiamo conosciuto a colori perché noi quella gente l'abbiamo incontrata non so se mi sono spiegato consiglio questo vai avanti perché stiamo terminando e voglio finire con questa frase qui che è quello che era scritto nel nel volantino che veniva distribuito fuori dall'università a New York per promuovere per dire alla gente entrata stiamo parlando di questo lo dicevano a New York loro noi no vai avanti lo stato maggiore dell'esercito ha fatto un libro dopo queste ricerche e ha parlato di lui sta studiando il caso di Amico e molto probabilmente uscirà un libro su Amico vai avanti perché ho terminato Maurizio Lazzaro dei Costiglioni è stato riconosciuto giusto nel giardino a Milano l'ultima foto e quello a destra che gli assomiglia molto è il nipote che si chiama Nicolò ho terminato grazie allora grazie al Comandando Tota per questa importantissima testimonianza noi dobbiamo un po' avvicinarci alle conclusioni erano previste due interventi molto brevi non so se è collegato c'è il collegamento allora ricordando che ciascuno di noi ha delle amicizie o parentele con un imu io avevo nella mia biblioteca quel libro che mi era stato donato da un carissimo amico Ingenito che è il figlio di Franco Ingenito imu di cui ho fatto prima decenni sei eccolo lì c'è Roberto Ingenito poi volevo invitare Valeria Lucia Valenzi se voleva dire due parole piccolo intervento dopo devi andare via va benissimo allora cedo la parola a Roberto Ingenito Ingenito che da Firenze ci teneva di intervenire per dire brevi parole prego grazie mille grazie un brevissimo veramente brevissimo intervento per una piccola testimonianza per confermare quanto già ampiamente detto finora ovvero che oltre al fatto che tutta la vicenda degli Ivi è stata tenuta all'oscuro dell'opinione pubblica e sottaciuta fino a pochi anni fa anche gli stessi protagonisti hanno cercato per lo più di dimenticare di nascondere e proprio a conferma di ciò anche mio padre non aveva mai parlato della sua vicenda e del suo diario fino agli anni di Donila quando quando decise di sua esclusiva iniziativa di trascrivere il suo diario che aveva verosamente custodito sul computer e poi distribuendolo ai parenti da qui poi l'idea di realizzare recentemente la pubblicazione però mi premeva infine diciamo inoltre anche comunicare il desiderio di mettere a disposizione di chiunque fosse eventualmente interessato il libro la pubblicazione inviandolo per posta personalmente richiedendo anche la cortese disponibilità degli organizzatori però ecco mi piacerebbe anche poter depositare in un archivio storico il diario originale perché appunto che ho scritto da mio padre proprio nel periodo dell'abrigionia durante la prigionia quindi un autografo che è il mio possesso ed anche una rubrica che contiene una lista di tutti i diciamo i detenuti tutti i compagni del campo con diciamo tutti i dati anagrafici quindi i nomi le date di nascita e le città di origine città italiane di origine anche questa rubrica è stata redatta da mio padre durante l'internamento ed è una rubrica diciamo ufficiale originale certificata da un generale del campo e che forse può avere anche una valenza storica quindi mi farebbe piacere vedere se è possibile depositarlo in un archivio storico grazie mille e a finire grazie grazie a te e magari ti metterò in contatto con gli studiosi in modo tale da poter in qualche modo recuperare questo materiale però vedo anche l'avvocato Guzzi anche a lui chiedo un rapidissimo intervento lui difende alcuni in questa difficile vicenda su risarcimento dei danni quindi se brevemente ci dice qual è la situazione grazie mille ti ringrazio per la parola ti ringrazio per l'opportunità di intervento e ti ringrazio soprattutto per l'invito perché so che dietro questa mia partecipazione c'è un tuo invito a questo convegno mi è dispiaciuto non essere presente di persona con l'occasione per salutare te per salutare anche un generale tolta che ho avuto modo di conoscere in occasione oltre da ogni degnoto sì io purtroppo sono stato in qualche modo il colpevole facciamo colpa perché di fronte a quella sentenza 238 del 2014 devo dire che ho iniziato la procedura esecutiva senza sapere a che cosa poi andavo incontro cioè un pignoramento immobile che ha determinato ahimè la riapertura di un contenzioso diplomatico perché in sostanza c'è stato un nuovo ricorso alla porta internazionale di giustizia lì che è nato il discorso del decreto Draghi quali sono le criticità di questo decreto semplicemente questo che a mio molestissimo sommesso avviso non si può prevedere l'estinzione obelagis di procedure esecutive già iniziate procrastinando l'istituzione di questo fondo che dovrebbe soddisfare poi le vittime dell'internamento però non si sa quando non si sa come cioè prima si estinguono le procedure e poi si eroga il riservimento un po' un cortocircuito processuale ma un cortocircuito che tocca il diritto alla difesa tocca l'articolo 24 della costituzione in pieno insomma perché alla fine del 238 del 2014 la cosiddetta sentenza tesauro è vero nasce da un invio pregiudiziale per il procedimento di cognizione ma se lo leggiamo nella sua completezza e consideriamo il principio della tutela processuale come stessa non solo la fase cognitiva ma anche la fase esecutiva beh questi signori che aspettano giustizia da quanto? da 80 anni praticamente è bene che gliela si riconosca e che la si riconosca realmente come dicevi nel tuo intervento precedente Lorenzo che è una cosa che tocca il diritto internazionale ma tocca i valori fondamentali e tocca anche il diritto civile perché uno dei principali ostacoli che abbiamo incontrato in Italia è stato quello del fatto che non ci sarebbe una norma penale che preveda reati imprescrittibili effetti certo che il crimine di un disgenzio entra con l'attivo 10 della costituzione quindi sarebbe un discorso molto lungo certo per la verità noi speriamo che siamo già in la consulta con l'ordinanza 154 2022 quindi pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 5 gennaio di quest'anno quindi diciamo che 4 gennaio quindi diciamo che auspichiamo l'intervento chiarificatore della Corte Costituzionale grazie 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 a te quindi siamo arrivati a gennaio 2022 quindi è una una vicenda che potrebbe rappresentare anche oggetto di un approfondimento tra noi giuristi allora io devo solo dare la parola a per le conclusioni al professor Di Salvo e al senatore Romano che magari se li facciamo sedere qui allora il professore Enrico Di Salvo è stato direttore del CIRV è un chirurgo è un chirurgo molto diciamo un quarto d'ora sì diciamo che tempi ci prendiamo brevissimo io poi Lucio fa la che tempi ci prendiamo pochissimo 10 minuti allora la dottoressa Badessa 10 minuti 10 minuti facciamo 5 e 5 perfetto allora presentavo il professore Enrico Di Salvo post post presidente del CIRV e chirurgo dell'università Federico II a cui cedo la parola grazie grazie mille Lorenzo io penso che i ragazzi siano un po' stanchi è stata una giornata importante però penso anche che una volta all'anno si può dedicare l'attenzione di un'intera giornata a un tema così anzi forse si deve io lascerò molto volentieri a Lucio la sintesi finale però vorrei rifarmi un attimo al bellissimo intervento del generale comandante Tolta lo dico non per piageria non è nelle mie abitudini ma un intervento forte convinto e che ha portato sul tavolo di tutti noi soprattutto dei più giovani il tema della dignità dell'onore della necessità di essere fedeli e anche al tempo stesso l'onere di distaccarsi da un precedente impegno quando ci si rende conto che c'era solo brutalità e delitto io mentre il generale parlava facevo una riflessione Benito Mussolini è andato al potere nel 22 l'Italia è entrata in guerra alla fine del 39 quindi i nostri soldatini che andavano lì a combattere per la patria erano ragazzi più o meno della vostra età ponetevi per un attimo la domanda di quale scelta avreste fatto voi sareste stati capaci di dire no non continuo con questa Italia con questo governo e con questa alleanza con i nazisti avreste avuto questa forza morale di dire no perché questo è un tema che i giovani si devono porre sono convinto di questo i giovani sono capaci di di svelare delle straordinarie qualità ma una generazione che era nata nel culto quando Mussolini presi il potere stavano nascendo dei bambini questi bambini si sono formati all'idea di patria credere obbedire combattere e quando gli si è chiesto nel 43 di fare una scelta con questi imprinting furibondo che la dittatura aveva dato hanno avuto un ulteriore elemento di confusione eppure in tanti hanno detto no perché è prevalente è prevalente sul dovere sull'istituzione è prevalente la coscienza è necessario che ci si ponga in qualunque momento il problema ma stasera quando metterò la testa sul cuscino avrò il diritto di addormentarmi ecco io vi lascio solamente con questo messaggio perché credo che i nostri predecessori in generale ha ricordato una figura direi quasi addirittura fra il romantico e il mitologico ma ne abbiamo avuti di questi eroi la storia del nostro paese è piena di eroi è piena di farabutti lo vediamo anche in questi tempi ma quando il generale ha detto le decorazioni non erano mi correga se sbaglio non erano come sono oggi io penso che anche quelle di oggi fanno onore a chi le porta siamo stati un paese conflittuale un paese che ha saputo sbandarsi e confondersi però abbiamo saputo anche ritrovare la strada abbiamo lasciato sul campo tanti morti tanti morti per cui io sono molto contento di aver partecipato a questo pomeriggio che considero un pomeriggio di approfondimento è vero generale indegno che dei nostri eroi non si parli qui però fa bene sentire che qualcuno poi se ne ricorda ne parla e fa omaggio al CIRB qui rappresentato dal suo direttore il professore Perloni Grifigo nel quale mi complimento per questa bellissima giornata contiamo che lei tenga fede alla promessa con il bel dono librario che ci ha fatto grazie Enrico e cedo la parola a Lucio Romano il senatore Lucio Romano anche lui c'è omogeneità è un medico e soprattutto è uno studioso docente di bioetica e anche componente del Comitato Nazionale di Bioetica quindi prego ma prima di tutto grazie grazie alla possibilità che mi è stata offerta non solo di essere qui da questa mattina e seguire tutti gli interventi che in religioso secchio lasciatemi passare questa espressione ha caratterizzato non solo la nostra attenzione ma devo dire anche una serie di appunti che prendeva alla luce di una sequenza frenetica di parole chiave alla luce delle quali sottoporre a me stesso delle riflessioni e devo dire diventa difficile fare una sintesi nei tempi che sono dati tre o quattro minuti non oltre perché le provocazioni nel senso più nobile di questa parola sono state tante e sono tutte provocazioni di ordine culturale ma direi anche di ordine emotivo culturale perché noi siamo partiti da quella bellissima frase che io non posso dimenticare di Primo Levi che dice se è impossibile comprendere conoscere è necessario se un fenomeno così irrappresentabile un evento che rappresenta quanto di più grave e più aggettivabile impossibile dare non può non essere conosciuto perché la dimensione della conoscenza che ci è stata offerta oggi nella varietà delle riflessioni dalla dimensione dell'arte che rappresenta la Shoah alle forme anche abbastanza innovative si parlava di fumetti anche con qualche criticità nella rappresentazione alle testimonianze fondamentali storiche perché se non si conosce la storia io non sono storico però posso dire che se non si conosce la storia noi non conosciamo né il passato né il presente né non possiamo nemmeno aprirci a quello che è il futuro non abbiamo consapevolezza senza conoscere la storia ma poi ci sono le testimonianze e queste testimonianze devo dire rappresentate oggi da parte del generale Tota ma che sono state rappresentate anche dal professore che adesso vado rapidamente al nome il professore Ravaiano per quanto riguarda tutta la rappresentazione di queste testimonianze di grande eroismo che molte volte sono state rappresentate volutamente o forse no nell'anonimato perché le persone hanno dimostrato eroismo non con il clamore della comunicazione perché era impossibile ma la discrezione nel timore nella sofferenza di nascondere per salvare e credo che queste sono delle testimonianze irripetibili e che devono essere continuamente essere prese in considerazione secondo me perché se noi non conosciamo questo non abbiamo nemmeno la forza di avere dei modelli alla luce dei quali non dico uniformarci ma dico sperando di non averlo fare mai di emularle io mi riferisco ai giovani soprattutto perché credo che questi messaggi siano come giustamente mi ha richiamato ripetutamente oggi dei messaggi che devono essere rivolti soprattutto ai giovani io guardandovi oggi stamattina più numerosi ma anche oggi voi presenti facevo una sorta di analisi come dire anche come dire una sorta di simbolismo didattico immaginate che adesso qualcuno di voi o diversi di voi i vostri compagni non possono più andare a scuola o verrebbero soppressi questa è una realtà che ha vissuto la nostra Europa per lunghi mesi per diversi anni dove voi non avreste veduto mai più il vostro compagno di banco provate solo per un momento a vivere una sensazione di questo genere e capite la drammaticità di quello che ha caratterizzato quella storia quella storia che per il vero in forme diverse si ripete e potrebbe ripetersi e credo che questo debba essere la grande pedagogia di questi incontri io ringrazio ancora la professoressa Antono della possibilità insieme al CIRB direttore past presidenti direttore del CIRB e tutti quelli che fanno parte del CIRB che ci danno la possibilità di poterci incontrare perché la nostra memoria non cada come ricordava pochi giorni or sono Liliana Segre nell'indifferenza o nell'obbrio perché nell'indifferenza e nell'obbrio c'è la voragine della ripetitività delle cose più nefante della storia e credo che appunto questa possibilità di ricordare non è la possibilità di ricordarlo in un solo giorno che diventa evidentemente un rituale può diventare anche un'occasione per ripetere a se stessi determinate cose no ma deve essere una pedagogia di vita che da questi incontri ne possa derivare una maggiore sensibilità e attenzione a tutto ciò che avviene nel mondo e tutto ciò che speriamo non possa mai avvenire credo che questa sia la grande forza educativa di un centro interuniversale di ricerca bioetica che si avvale di una partecipazione corale e ogni anno con sempre più persone con sempre nuovi ospiti che portano la loro storia portano la loro cultura portano il loro sapere c'era un'espressione che io riportavo a luce di un mio vecchio maestro che mi parlava in termini di verità una verità che si incontra con la storia sono queste parole che io voglio riporle di nuovo alla vostra attenzione mi diceva guarda il vero deve andare oltre il certo e poi c'è questa espressione che credo che oggi cada in maniera quanto mai attuale e mi diceva la coscienza deve andare oltre la conoscenza perché noi possiamo partire da ciò che è certo e da ciò che è la conoscenza o non possiamo fermarci a questo perché nella dimensione del certo c'è la verità e oltre la dimensione della conoscenza deve essersi la dimensione della coscienza e nella dimensione della coscienza e del vero e della verità credo che noi possiamo fare un percorso di civiltà io giorni fa il 20 di questo mese mi ritrovavo al Senato e ho partecipato ad una iniziativa credo che sia estremamente lodevole di grandissimo livello c'è stato un incontro di Samy Modiano Samy Modiano oggi 92 anni 92 93 persona che partecipe in maniera molto attiva da anni a quello che voglia significare la testimonianza dell'aver vissuto in un campo di concentramento credo che questa sia una testimonianza che poi soprattutto giovani dovete vedere e la potrete vedere andate sui siti andate dove volete non voglio fare pubblicità assolutamente ma vi perdonerete se andate sulla mia pagina facebook io ho voluto assolutamente riportare questa testimonianza che diventa pedagogia di vita e che voi non potete dimenticare e che noi non possiamo accantonare nell'oblio o nell'indifferenza grazie e allora grazie Enrico Di Salvo e Lucio Romano per queste debbo dire bellissime parole voglio ringraziare gli studenti che sono rimasti fino in fondo e quindi quantomeno abbiamo un gruppo che ha tratto sicuramente profitto e credo che il Cib possa essere soddisfatto perché è stato una mattina o un pomeriggio che ci ha arricchiti di diciamo di valori di principi di nuove conoscenze che sono state veramente utili quindi grazie a tutti i relatori e alla prossima la prossima iniziativa